Buonasera agli intervenuti, ai nostri ospiti e soprattutto a chi ci sta seguendo sul sito della Fondazione di Modena in modalità streaming. Ci dispiace ancora di dover utilizzare questa modalità ma abbiamo pensato che con la prudenza necessaria ancora fosse adeguata alla nostra iniziativa utilizzare la modalità da remoto. Con questa conferenza noi oggi presentiamo la seconda parte della ricerca che la Fondazione Mario del Monte ha organizzato sul tema della situazione che si è venuta a determinare nella nostra città, nel paese, nel mondo direi con l'epidemia, nella pandemia Covid-19. Questa ricerca si è articolata in due parti. La prima, che abbiamo presentato esattamente un anno fa in questa stessa sede, era una fotografia dell'opinione dei cittadini modenesi, attraverso un campione rappresentativo della popolazione che ha un'età superiore ai 18 anni, della fase, una fotografia della situazione che si era venuta a determinare e delle loro opinioni. Questa seconda parte invece della ricerca ha utilizzato invece una modalità diversa. si tratta di colloqui in profondità con un numero ristretto di personalità e di circa un centinaio di interviste fatte con un questionario strutturato ad un numero di circa 100 appunto testimoni privilegiati, cioè persone che hanno competenza e ruolo nei diversi settori della società. Una metodologia innovativa anche per noi, per l'Osservatorio Via Emilia e della Fondazione Mario del Monte, che invece finora abbiamo sempre utilizzato lo strumento del sondaggio d'opinione. Con questa ricerca, questa seconda parte della ricerca che presentiamo oggi e che abbiamo appunto intitolato Modena 2040, cambiare per ripartire, ci siamo posti il tema della prospettiva, del futuro. Cioè abbiamo cercato di ricevere in forma qualitativa opinioni e indicazioni su come si pensa dovrebbe svilupparsi la città di Modena in un orizzonte temporale medio-lungo. Dico subito, non con la presunzione di fornire un progetto compiuto, tantomeno indicazioni operative immediate, ma con la volontà di dare un contributo, un contributo di qualità, ad una riflessione che crediamo debba e possa essere fatta pubblicamente fra i diversi attori, fra i diversi soggetti, fra tutte le forze che hanno a cuore il futuro della città e si interrogano appunto su queste prospettive. L'ambito della ricerca che oggi presentiamo è molto ampio, ha abbracciato tanti temi, tra l'altro non per questo esaustivo di tutte le questioni che sono sul tappeto. Abbiamo cercato di fornire elementi sia di carattere più generale e in modo sintetico, quasi identità, diciamo così, di caratterizzazione proprio dell'insieme della città e dei suoi bisogni. E a questi poi, con una seconda parte, come verrà poi spiegato da Martinelli, abbiamo accompagnato anche elementi e contenuti proprio di tematiche, di settori ed ambiti specifici, dall'innovazione tecnologica e digitale ai servizi alla persona, dalla formazione, la scuola, il commercio, l'artigianato, la pubblica amministrazione e così via. Cosa ne esce? Domanda impegnativa e difficile sicuramente da sintetizzare, data appunto l'ampiezza. Sicuramente, ecco questo mi sento di dirlo, l'abbiamo già anticipato, l'elemento più interessante è questa scelta della cultura, a cui si accompagna il tema della formazione del capitale umano come elemento trainante per il futuro della nostra città. E perché dico interessante? Perché in tutte le indagini e nelle caratterizzazioni che fanno la storia, fanno la realtà della nostra città, noi abbiamo sempre fatto riferimento, i modenesi hanno sempre fatto riferimento al fare, al lavoro, alle condizioni materiali e questo è un dato, io credo, significativo. Ma poi c'è tanto altro, c'è una tensione verso l'innovazione tecnologica e digitale, però anche una forte tensione verso la socializzazione e il cambiamento ambientale. Ma ci sono, in questo senso, le contraddizioni, è chiaro, rispecchiano la realtà, anche le radici e il forte ancoraggio al presente e alla storia, quello che siamo e che è la nostra città. Comunque mi fermo qui, Martinelli ha il compito di, non semplice, anche di sintetizzare nella sua introduzione la ricerca, un rapporto di ricerca che è superiore alle 80 pagine che troverete da domani sul sito della fondazione. Ora, come svolgiamo i nostri lavori? Innanzitutto, dicevo, la ricerca verrà introdotta e rappresentata da Vittorio Martinelli, che ringrazio e che ha coordinato il gruppo di lavoro e che è il curatore della ricerca. A questo seguiranno tre interventi. Abbiamo chiesto a tre personalità, chiamiamole competenze, che possono dare un'occhiata al tema dal di fuori, tre di scassa, si direbbe in altre occasioni, e che ringrazio e che sono in collegamento con noi via streaming. E che sono Manuela Rata, che è attualmente advisor per il Comune di Genova sui temi della tecnologia e dell'innovazione, che saluto e vedo in video già collegata. Tra l'altro, presidente del Festival della Scienza, fondatrice e oltre che esponente del CNR per tanti anni. E poi Franco Mosconi, economista, docente dell'Università di Parma, che saluto anche lui, che vedo collegato, più vicino a casa nostra e soprattutto sul tema dell'economia dei distretti della nostra regione, ha una storia non di breve durata. E infine Elisa Valeriani, docente della Facoltà di Giurisprudenza di Unimore, perché ci serve capire anche e soprattutto i temi della pubblica amministrazione. Saluto anche Elisa. Buongiorno, buonasera. Ormai buonasera. Immagino da Roma, ecco. Da Roma. A queste poi seguiranno i tre interventi istituzionali, il presidente Cavicchioli, Paolo Cavicchioli, il ministro Patrizio Bianchi, ministro della pubblica istruzione e fine il sindaco di Modena. Chiudo questa introduzione dicendo che il ringraziamento va a tutti quelli che hanno collaborato con noi, al Comune di Modena, ma soprattutto alla Fondazione di Modena, non solo perché grazie ad essa stiamo qui organizzando questo evento, ma soprattutto perché senza il suo contributo non si sarebbe potuta svolgere la ricerca. Detto questo, do subito la parola a Vittorio Martinelli. Bene, buongiorno, buonasera, buonasera a tutti. Devo dire una cosa sul piano tecnico. Questa ricerca è particolare, è una ricerca prevalentemente qualitativa. Non vi dirò, i modenesi pensano che al 40% e il 60% invece pensa che. Ma va colto invece come un insieme di suggestioni, di idee, che non hanno la pretesa di essere organiche, ma che sono nate con lunghi colloqui. Prima con 12 leader d'opinione, colloqui in profondità, un'ora ciascuno, dove abbiamo provato a immaginare come sarebbe Modena, o più che come sarebbe Modena, come sarebbe auspicabile che fosse nel 2040. E poi dopo le idee di questi 12 opinion leader le abbiamo riproposte a 100 testimoni privilegiati, persone che, per il lavoro, per l'attività, hanno un occhio particolare su Modena, hanno una visione, un'angolatura particolare, insomma, persone delle imprese, del lavoro, dell'associazionismo, della cultura, della formazione. La cosa interessante era che a queste 100 persone, a questi 100 testimoni privilegiati, noi abbiamo proposto alcuni scenari. Li abbiamo proposti e loro potevano dichiarare il loro grado d'accordo, ma potevano anche riformulare lo scenario così come noi lo avevamo presentato, correggendone alcuni aspetti. E quindi è diventato un meccanismo di dialogo con gli intervistati, ed è per questo che è un dato qualitativo. E nel rapporto di ricerca voi potrete vedere lo scenario che noi abbiamo proposto e le osservazioni che hanno fatto di correzione o di precisazione del loro pensiero. Quindi è stata una metodologia che non va a misurare idee, ma va a raccoglierne per metterle a disposizione. La prima ricerca, come ricordava il Presidente Guerzoni, era rivolta, ci aveva detto sostanzialmente una cosa. La pandemia e ciò che ha comportato le modifiche del nostro modo di lavorare, di relazionare, di studiare, di acquistare, è stata una sorta di acceleratore di cambiamento. Per cui in un esperimento generalizzato e di massa che nessuna ricerca sociologica o psicologica avrebbe mai potuto mettere in campo, milioni di persone hanno improvvisamente cambiato pezzi dei loro comportamenti quotidiani. Quando si cambia a questo livello non torna alla normalità, torna a una realtà nuova. Per questo che il titolo è cambiare per ripartire. Non è semplicemente una ripartenza. Non è possibile riprendere da dove ci eravamo interrotti. È cambiato qualcosa che richiederà. Bene. Allora, la ricerca si articola in due punti. Siccome la domanda di fondo è come è auspicabile che sia Modena nel 2040, la prima risposta è dipende da che cosa ci portiamo noi nel 2040. Dipende qual è l'atteggiamento. Che Modena portiamo nel 2040? Questa è la prima parte della ricerca che adesso vi presento. La seconda è proviamo a immaginare cosa sarebbe utile. Bene. Allora, partiamo vedendo i primi dati. Questo passato me lo porto nel futuro. Era un po' una frase che sintetizza un atteggiamento dei modenesi che hanno un'identità molto forte. L'identità di sé dei modenesi è un'identità piuttosto forte. Ha le idee abbastanza chiare. È talmente forte che a volte può essere impeditiva di immaginare il futuro. Anche i propri simboli della realtà modenese sono talmente forti e radicati che a volte abbiamo trovato fatica a immaginarne di nuovi. Perché una volta detto che il simbolo di Modena è la ghirlandina, è a via per via, è la capacità di fare, e poi dopo quando dovevi immaginare il nuovo c'era una difficoltà. L'identità è una cosa particolare. C'è un'identità che apre e un'identità che chiude. L'identità può aprire al nuovo. L'identità può tenerti legato al vecchio. E quindi c'è questa prima parte. Che cosa portiamo noi nel 2040? Quali sono le piste da seguire? Quali sono gli elementi principali? Allora, il primo è questo. Adesso vi farò vedere una serie di slide. Non perdetevi a leggere i commenti, oppure fatelo se siete sufficientemente veloci. Ma guardiamo un po' che cosa ci hanno detto i testimoni privilegiati. Per preparare la Modena dei prossimi vent'anni, su quali elementi dobbiamo muoverci principalmente? Cultura e formazione. E qui c'è il primo elemento, in parte, di sorpresa. Perché, come diceva Roberto prima, sì, certo, Modena è una città pragmatica. È la città del fare, della concretezza. È una città che usa il setaccio dell'esperienza per misurare le ideologie, le idealità. Sì, ci sono, c'è anche la passione nei modenesi, ma insomma tutte le mettiamo lì. Siamo davvero un po' tutti, peppone Don Camillo. Insomma, nel senso che ci guardiamo. È l'esperienza concreta del vivere che ci insegna a selezionare le idealità ispiratrici. E mettere invece al primo posto la cultura e la formazione come pista trainante. Ecco, nel bonus del 110% del futuro, l'elemento trainante è... Se è consentito questo paragone edilizio, diciamo, l'elemento trainante è la cultura, della formazione. Questo pone, lo anticipo alcune cose così dopo vado più veloce, pone anche i soggetti della cultura e della formazione in una posizione nuova a Modena. Li porta a richiedere loro maggiore responsabilità, maggiore presenza, essere maggiormente, aperte le virgolette, soggetti politici della città. Cioè che disegnano il futuro della città. E questo pone un tema di riflessione nuovo. Poi sì, certo, ci sono gli altri aspetti, l'ambiente, la mobilità. Molto alto anche il dato delle relazioni sociali, di una sanità di qualità, dei servizi alle persone. Le tecnologie sono come se fossero un po', diciamo così, trainate perché il tema delle tecnologie o dell'ambiente in larga parte non le giochi a livello territoriale a Modena, ma le giochi più complessivamente. Bene. E poi ancora, ci sono cose che sono apparentemente opposte e ugualmente utili per la crescita di una città. Cosa portiamo, cosa scegliamo in una forzata contrapposizione che abbiamo proposto? Tra continuità e cambiamento ci hanno detto il cambiamento, tra comunità e individuo la comunità, tra regole e libertà le regole. C'è molta Modena nella Modena che vuole cambiare. C'è molta Modena, e cioè le regole, e cioè la comunità, nella Modena che mette al primo posto il cambiamento. Anche questo è un dato di particolare interesse. Avanti. Ma cosa è la Modenesità? Anche qui c'è una conferma clamorosa. È la capacità di fare, è quello che dicevamo prima. È il senso dell'esperienza, è l'esperienza che filtra. Poi c'è una parte che dice, attenzione, non esiste la Modenesità. Non illudetevi, io non sono di questo parere, ma qua siamo nel campo dei pareri e quindi tutti sono più che legittimi. Ma c'è una parte che ritiene non esserci. In ogni caso, come vedete, la capacità di fare in un punteggio che arriva a 100, coglie il 41%. E le tre cose che Modena dovrebbe portare nel futuro, indispensabili o comunque molto importanti, è anche qui c'è una conferma ulteriore. La cultura e l'istruzione, insieme alla comunità al fare insieme, alla solidarietà, e poi anche alla capacità e alla concretezza e alla volontà. Anche qui c'è molta Modena, nella Modena, che deve investire sulla cultura per cambiare. Poi ci sono le altre cose, le imprese, i servizi, la tradizione, la storia, eccetera. Ma insomma, le piste incominciano a venire fuori abbastanza bene, questo tema della cultura, della comunità, del fare insieme la concretezza che ci contraddistingue. Modena come deve essere nei prossimi vent'anni? Qui c'è un altro classico, un altro totem. Modena deve essere di queste dimensioni. Modena è una città che sta bene di queste dimensioni. Non deve essere una grande città, non deve curare le sue caratteristiche, ma le sue caratteristiche non sono messe in discussione dalla dimensione. Non è la dimensione che ne cambia i connotati. E non c'è la ricerca di andare in quella direzione. Quindi un voto medio di accordo intorno al 7 per questa idea di Modena, che rimane della dimensione attuale. Interessante anche questa su Modena e l'Europa. Modena è una città aperta che ha costruito nel tempo una vasta rete di relazioni, con luoghi e città. Si sente europea senza nemmeno chiederselo. Quanto condivide questa? Siamo europei perché lo siamo per posizione, per relazioni economiche, per rapporti internazionali, che in qualche modo abbiamo costruito, ma non che fosse il nostro primo obiettivo. Quasi fosse l'essere europeo un riflesso del nostro fare. Non tutti su questo sono d'accordo e precisano. Qualcuno ha corretto in modo simpatico, ha corretto la frase si sente europea senza nemmeno chiederselo e ha messo si sente europea senza nemmeno saperlo. E ha, diciamo, così precisato questo aspetto. Un'altra parte ha detto attenzione, è vero, sì, siamo europei nell'economia, siamo provinciali in altri aspetti. E quindi la dimensione europea di Modena è una dimensione prevalentemente economica, non culturale. E quindi su questo c'è da lavorare. Torna il tema della cultura. Sentite, è davvero un elemento trainante di tutta la ricerca. E come sono i modenesi? Questa è simpaticissima perché davvero la risposta è, io la trovo molto valida. Come sono i modenesi? Sono sostanzialmente dei moderati. Sono dei moderati. Non sono radicali, come atteggiamento, come carattere, come cultura. Non sono dei radicali. Sono dei moderati e possono essere moderati innovatori e moderati conservatori. Ma il tratto di fondo è la moderazione, non è la radicalità. Guardate che la moderazione non è il contrario di passione. E anche nella passione ci può essere un elemento di moderazione. Però mi pare un tratteggiare questi modenesi in modo abbastanza... E questa moderazione è così perché quando gli chiedi ma se Modena fosse un animale, che animale sarebbe? Allora, vabbè, la cosa principale è il cane, il cavallo, cioè la familiarità, l'affidabilità. Ma mi è piaciuta moltissimo quest'idea del felino con una precisazione. Non un gatto, che è un po' troppo poco, ma nemmeno una tigre, che è un po' troppo per le modenesi. Cioè, una tigre. E quindi quest'idea di moderazione, anche quando definisci il felino, hai bisogno di una moderazione che dice, beh, lì in mezzo, ecco, tra una tigre e un gatto, insomma. Cioè, c'è un'idea di moderazione anche in questa cosa che è abbastanza simpatica. Bene. Dicevo prima dei simboli, anche i simboli. C'è questa difficoltà e questo invece è un elemento su cui riflettere. C'è proprio questa difficoltà a uscire dal presente. Noi l'abbiamo trovata nella ricerca. Quando chiedevi uno sforzo di entrare nel 2040, c'era una resistenza che ti riportava al presente. E ti diceva, attenzione, attenzione. Per cui, quando gli hai chiesto i simboli, ti hanno continuato a dire la Ghirlandina, a Via Pervia, Ferrari, i motori e via. Ma non c'è uno sforzo di immaginarsi in una proiezione futura che io invece ritengo sarebbe utile e andrebbe recuperato. Chi guida, chi deve guidare il cambiamento a Modena, al primo posto torna a questo tema della cultura. E torna con forza e si ripropone, c'è coerenza nelle risposte che abbiamo raccolto. E insieme i corpi intermedi, gli istituti della mediazione e della rappresentanza sociale. Voi sapete che Modena è una città molto strutturata dal punto di vista della rappresentanza. Lo è stato, tutto il Novecento, è stata una fortissima strutturazione della rappresentanza. Che ha garantito partecipazione, ha garantito crescita, ha garantito coinvolgimento. Poi negli ultimi anni del secolo, nei primi anni 2000, questa capacità di rappresentanza è andata un po' in difficoltà. Più che un po'. E i corpi intermedi hanno sofferto, stanno soffrendo moltissimo. Non dico solo i partiti politici, che è un fenomeno non solo nazionale e internazionale, ma penso anche appunto ai soggetti della rappresentanza economica, culturale, sindacale. Effettivamente c'è una difficoltà notevole. E quindi c'è però il richiamo a che questa capacità di rappresentare la società torni e torni in campo. Perché non c'è la scelta, almeno da parte degli intervistati che abbiamo incontrato, non c'è un'idea di saltare l'intermediazione sociale. Non c'è l'idea che la partecipazione diretta e incontrollata dei cittadini possa essere l'elemento sostitutivo di altre forme di rappresentanza. No? Cioè l'idea che comunque la rappresentanza, se deve contare, deve essere forte. Devono esserci soggetti della rappresentanza. Perché ognuno che contratta per sé è una contrattazione che si moltiplica, ma è debolissima. Bene, tra gli stessi soggetti, lei chi vede oggi come particolarmente arretrato la politica, anche questo è un dato abbastanza scontato in Italia, a Modena di solito è un po' meno forte, ma insomma c'è anche a Modena, e i corpi intermedi, anche qui, devono fare un passo in avanti. Come vedete non la cultura, neanche l'economia. Non si dice che è l'economia che deve guidare il cambiamento, e non si dice nemmeno che è arretrata, c'è. La cultura deve guidare, non è arretrata, ha gli strumenti, ma si deve far sentire. Questo è un altro discorso. Esatto, questa è la cosa che vi dicevo prima. In sostanza, dicono, i cittadini devono essere rappresentati, l'idea di una rappresentanza diretta non funziona. Quali sono gli ostacoli al cambiamento a Modena? Il primo posto è la burocrazia. Poi vedremo un attimo che cos'è la burocrazia, anzi ve lo anticipo così vado più veloce dopo. La burocrazia a Modena non è intesa e non è descritta, in questo caso, come l'ottusità di una macchina che non sa che cosa rappresenta e che guarda solo se stessa ed è incapace di funzionare, eccetera. L'idea di burocrazia a Modena è l'idea di una burocrazia che ha molte regole, per certi aspetti molto importanti, per altre molte regole che tendono però a riprodurre l'esistente, a non prendere in considerazione il cambiamento. E quindi il pericolo, siccome la priorità è la cultura e la priorità è il cambiamento verso il 2040, è chiaro che se io ho una burocrazia che tende a riproporre la realtà esistente, per quanto sia una realtà bella, avanzata e anche ricca, però è una burocrazia che è incapace di cogliere il cambiamento. E quindi c'è questa idea di burocrazia e poi ancora un certo corporativismo e classi dirigenti ormai superate. Classi dirigenti ormai superate nell'accezione che ci hanno dato i testimoni privilegiati è quella di vedere un po' appunto una società che tende a riproporre se stessa, tanto che qualcuno va a precisare e dice c'è proprio bisogno anche di un cambio generazionale. Nelle classi dirigenti intese in senso largo, non solo che riguarda solo la politica, ma che riguarda tutta la città, la sua organizzazione, la sua economia, eccetera. Ma l'idea di un cambio generazionale qua e là viene fuori. Bene. Esatto, questo della burocrazia ve l'ho già detto. Modena è dotata di tanti capitali. Quali sono i più importanti? Capitale umano e capitale sociale. Non mi soffermo perché è interessante. È un tema che abbiamo già affrontato anche in diverse occasioni. On demand, online e socialità. C'è questo dubbio che percorre tutta la ricerca, che questo trasferimento di pezzi della nostra vita online sia un elemento che logora sostanzialmente la socialità. Perché la socialità ha altri luoghi. Un leader d'opinione nelle interviste ci ha dato un'immagine molto bella. È il piano terra il luogo della relazione. È il piano terra il luogo dell'incontro. È il piano terra il luogo dello scambio, dell'apertura. Non è online. E quindi se dovessimo pensare una cosa da cambiare nei prossimi anni, non è l'online che va avanti da solo. È il piano terra che dobbiamo ripensare. I luoghi che si affacciano sul piano terra. I servizi che si affacciano sul piano terra. Le occasioni di incontro. E quindi siamo dentro l'urbanistica, siamo dentro l'organizzazione sociale, siamo dentro a un'idea di cambiamento molto suggestiva. questa idea del piano terra a noi è piaciuta molto. E quindi c'è un altro aspetto. Questa invece è una cosa che metterei in discussione personalmente, ma sempre con quel che valgono le opinioni personali. Abbiamo messo questa affermazione. Appartenenze, identità e cittadinanza si possono avere solo in un luogo fisico, in una relazione fra persone in carne ed ossa. Oppure l'appartenenza, l'identità e cittadinanza si possono avere anche in luogo virtuale. La risposta è no. L'appartenenza, identità e cittadinanza sono solo in presenza, in uno scambio fisico. Non sono molto sicuro di questo, ma lo metto come punto di discussione. Ci sono elementi di identità e di appartenenza che si stanno sviluppando online senza contatti fisici, diretti, immediati. E l'online può essere anche elemento identitario per molti aspetti. Allora, questa è... Incominciamo a immaginare il futuro. Ma, ragionamento in generale. Se cambia il nostro modo di vivere, di lavorare, di produrre, eccetera, eccetera, eccetera. Cambia anche il nostro modo di abitare. Sì, perché le case diventano luogo del lavoro, luogo degli acquisti, luogo... Cambia anche il nostro modo di spostarci. Sì, perché l'auto nuova senza pilota e quindi io la chiamo, mi prende, mi porta. da qualche parte, poi lavoro da casa e poi, eccetera, eccetera. Allora, cambia il modo di abitare, cambia il modo di muoversi. Quindi è probabile che due grandi punti fermi della vita dei modenesi, e non solo dei modenesi, avere la casa e avere l'auto, si possono spostare dalla proprietà al servizio. Perché se cambierò casa più volte a seconda delle mie esigenze e se cambierò auto oppure ne avrò una sola anziché due perché l'altra è un modo di servizio, allora sposto dalla proprietà al servizio. Quanto sei d'accordo? Calma. Dicono i modenesi. Dicono i modenesi. Calma. Perché questo è un tema difficile. Andare attorno alla proprietà della casa, alla proprietà dell'auto, beh, proprio così. Adesso lasciami almeno digerire l'idea, ne riparliamo un po' più avanti, insomma, ecco questo. Sono temi molto importanti. Un'altra parola magica di questa ricerca è ibrido. Perché c'è questa, è venuta fuori questa immagine che i luoghi della relazione, appunto il piano terra, diventa luogo ibrido. È il luogo dove io posso comprare un oggetto ma posso anche avere un servizio. Può essere il luogo dove io compro qualcosa ma guardo un film o una relazione o un rapporto con altri. L'idea di un negozio specializzato per cui hai negozio e basta, e vende quella cosa lì e basta, è difficile da pensare, forse nel 2040. Anche la stessa idea di artigiano non può essere più quello che ha il negozio lì e ti vende il vestito, ma forse quello che ha un computer che ti prova al computer il vestito nuovo e poi domani, subito dopo, te lo costruisce e te lo realizza sulla base della prova che abbiamo fatto al computer e così per gli occhiali, così per altre cose, adesso dico per dirci. e quindi il luogo è anche dove io vado e trovo un pezzo di servizi perché lì posso prenotare un pezzo di sanità o di servizi oltre che acquistare un oggetto e posso avere più occasioni, ibridi, luoghi ibridi, ibridi non specializzati. è un tema interessante, cioè andremo, continueremo la specializzazione, la parcellizzazione oppure invece ricominceremo a mescolare le cose. Andremo ancora a navigare e a moltiplicare la conoscenza così o andremo in profondità a scavare un pochettino il tema. Mobilità. L'idea di mobilità per il futuro è un'idea sostanzialmente di una riduzione del numero delle automobili come dicevamo prima e non solo la riduzione del numero delle automobili perché appunto un pezzo di automobili saranno diverse, saranno un servizio, ma anche più possibilità di muoversi e cioè più mezzi possibili è la bicicletta elettrica, è il monopattino, tanta città a piedi, tanta città a piedi. Ecco perché a questo punto il tema molto interessante della mobilità diventa questo. Attenzione perché stiamo uscendo dal vecchio dibattito degli ultimi trent'anni tra mobilità privata e mobilità pubblica, auto o autobus, ma avremo una pluralità di opportunità e in relazione a una pluralità di esigenze sceglieremo il mezzo e la modalità di spostamento più idonea. Questo apre percorsi nuovi, idee nuove, ci fa uscire e anche in questo caso dal presente per arrivare a immaginare il futuro. Sottolineo anche che c'è un'attenzione particolare, non c'è molto nel dibattito pubblico adesso, ma sul tema dell'idrogeno. Idrogeno come futuro anche per l'economia modenese che si candida, poi se ne parlerà a presumo, ma insomma l'idrogeno come elemento futuro, non tanto l'elettrico insomma, ma l'idrogeno come risorsa per la Modena di domani. Sanità e servizi alla persona. C'è l'idea fondamentale che anche qua è questa. Se mi cambia la vita e dunque mi cambiano i tempi della vita, del lavorare, dell'acquistare, delle relazioni, eccetera, eccetera. Ora, ho bisogno di servizi che siano maggiormente personalizzati perché i tempi della mia vita sono cambiati e non posso più pensare a un nido che è totale come istituzione. Porto lì, lì c'è il pacchetto, prendo quel pacchetto ed è così, punto. No, la mia vita è cambiata. Non sono più il lavoratore che lavora otto ore al giorno, ha bisogno di quel servizio, porta lì il bimbo e torna. No, perché due giorni alla settimana sarò a casa, qualche altra volta ci sarà mia moglie, mio marito, ci alterneremo, avremo esigenze molto diverse, flessibilità diverse, quindi io vengo lì e ti propongo una mia esigenza. Magari tu, come servizio, devi garantirmi la qualità del servizio, ma in modi molto articolati e molto diversi perché ciascuno di noi avrà esigenze diverse. E così per gli anziani, e così per la sanità. Noi abbiamo istituzioni molto strutturate. Ho letto proprio di recente che anche altri stanno facendo questo ragionamento. Leggevo, se non ricordo male, dello stesso Baricco che racconta di una scuola troppo del Novecento e troppo istituzione, troppo rigida, con pochissima flessibilità. Una scuola sostanzialmente del Novecento che ha avuto un suo ruolo, ha svolto una sua, ma che oggi forse non è più corrispondente all'esigenza. Per i tempi, per l'organizzazione. E così anche la sanità, e così anche i servizi, e così i servizi agli anziani, alla persona. Quindi questa idea della personalizzazione dei servizi va avanti, e così con questa idea non mi soffermo perché se ne è parlato molto della sanità di prossimità. Anche qui cambia, anche qui c'è, diciamo così, un'idea del piano terra, insomma, diciamo così, comunque di una, cambia l'idea dei medici di base, ripensare quella funzione, quel servizio. Vado avanti, ancora un po' di corsa. La tecnologia aiuterà moltissimo probabilmente a cambiare. Certo, poi ci sono le obiezioni, ce le hanno scritti i testimoni privilegiati. Attenzione, perché il rapporto medico-paziente deve essere anche fisico di persone? Sì, probabilmente sì. Attenzione, perché c'è la conoscenza della tecnologia che gli anziani non hanno, speriamo nel 2040 molto meno, perché cambierà, e quindi, insomma, però, insomma, la tecnologia potrà propone orizzonti nuovi. Anche l'idea degli anziani stessi va, per farla breve, nell'idea di ridurre le istituzioni, case protette laddove ci sono delle difficoltà, avere sempre di più esperienza di co-housing e senior housing, sempre per non usare l'inglese, diciamo così, però, insomma, l'idea di prolungare il più possibile la presenza dell'anziano con servizi adeguati alla persona direttamente a casa e rimandare al massimo la presenza nella casa protetta. Poi aggiungo io, c'è un'altra parte, perché noi abbiamo messo dentro l'idea di anziani una fascia d'età che oggi è tra i 60 e i 75 anni, che ha delle potenzialità enormi, che non puoi mettere dentro l'idea di anziano e che invece ha dei comportamenti, dei progetti, delle risorse economiche ed è la capacità di fare che invece bisognerebbe pensare come possono restituire alla società ciò che hanno imparato per non sprecare vita. Per non sprecare vita. Si apre un'idea in una fascia d'età su cui non abbiamo mai pensato, avevamo detto beh, dai, fuori metodo tayloristica, fuori dalla produzione, in pensione, anziano, finito. No, non è più così. Ci sono 10-15 anni lì in mezzo che ci propongono problematiche completamente nuove, completamente nuove, ma discuteremo anche in altre occasioni. Poi c'è un tema sui servizi ed è questo, ve lo propongo in questo modo. Ci sono altre modalità di servizi o il servizio deve essere sempre tutto istituzionalizzato, conchiuso, organizzato e rispondente alle logiche di chi lo eroga più di chi lo riceve. Punto di domanda. Due esempi, così proviamo a capirci. Se io non ho più le forze per tagliare la siepe del mio giardino e il mio vicino di casa invece ce le ha, come posso fare io farmi aiutare da lui, lo pago, lui è in regola, io non sono fuori in regola e abbiamo fatto un servizio agile senza ricorrere a nessuna istituzione e a complicarsi la vita. Se domani mattina il mio bimbo si ammala e siccome non siamo a Bolzano che ti mandano la puericoltrice a casa ma siamo a Modena e non so come risolvere il problema del mio bimbo che è ammalato perché io vado a lavorare eccetera eccetera e la mia vicina di casa è invece in condizione di darmi una mano ma lo posso fare in modo più semplice regolare senza incappare in irregolarità e problemi posso cioè avere un pezzo di servizi che dentro la regola mi garantiscono flessibilità e non necessariamente mi fanno ricorrere ad un'istituzione molto più rigida e molto più complessa la lasciamo lì perché è un tema che ha molti risvolti ma però è una bella suggestione a mio modo di vedere del sapere e del fare la scuola il capitale umano abbiamo detto che è la priorità si è ragionato molto sul lavoro per progetti come sarà il lavoro domani adesso non mi soffermo ma sarà un lavoro per progetti non più retribuito sulla base del numero di ore lavorate ma probabilmente sulla base della realizzazione e del raggiungimento dei fini del progetto vi faccio un altro esempio invece sulla scuola perché ce l'hanno fatto e ve lo ripropongo così com'è ma è possibile che la scuola una volta che sono andati via i ragazzi sia chiusa come facciamo a parlare di formazione permanente se le scuole chiudono quando i ragazzi sono a casa le scuole sono chiuse ma non dobbiamo invece incominciare a ragionare di una scuola che è sede luogo di una formazione permanente e di una formazione permanente che non segue più anche in questo caso l'organizzazione tayloristica della vita prima studi e poi lavori e poi fai il pensionato no perché la formazione attraversa tutta la vita e qual è il luogo della formazione se non in primo luogo la scuola e perché quella scuola lì è chiusa allora non lo sto investendo sulla formazione nel 2040 scuole aperte e poi l'ultima cosa e finiamo su questo abbiamo ragionato anche su una una società che cambia e se una società cambia crescono anche le esigenze se crescono le esigenze crescono anche i diritti e allora abbiamo proposto una serie di diritti nuovi e hanno avuto un riscontro un accordo molto alto abbiamo proposto il diritto alla formazione permanente abbiamo proposto il diritto hanno proposto il diritto alla trasparenza il diritto all'accessibilità tecnologica il diritto a costruirsi una vita di relazioni anche fisiche il diritto per i nuovi lavori il diritto alla riparazione alla manutenzione al recupero degli oggetti contro l'obsolescenza programmatica programmata il diritto alla facilità è molto interessante e allora abbiamo chiesto anche ai testimoni privilegiati oltre questi che vi sono piaciuti molto perché il grado d'accordo come vedete è tra 8 e 1 e 8,9 in una scala da 1 a 10 quindi un accordo molto robusto allora gli abbiamo detto ma scusate ma avete delle altre idee sì il diritto a una puntuale ed effettiva attenzione per i progetti di sviluppo presentati dal privato da parte degli enti pubblici questo cioè è l'idea di una burocrazia che non autorizza o vieta ma di una burocrazia che aiuta a fare che è un po' la cosa a cui avevamo accennato prima il diritto alla disconnessione il diritto di essere utili alla società riferito agli anziani e ai giovani e cioè a quel tema che vi dicevo prima della possibilità di restituire il diritto a fallire molto bello nel senso inglese dell'espressione molto bello molto interessante il diritto a una comunicazione non violenta ecco in questa ricerca l'atteggiamento di chi ha collaborato di chi ha risposto è stato a volte un atteggiamento di paura attenzione ma se andiamo attorno a queste cose qua i diritti andiamo a minare conquiste di questi anni è un rischio che c'è sì per certi aspetti sì oppure attenzione ma chi paga con tutte queste belle cose tipico modenese ma avete delle belle idee ma chi paga poi hanno dei costi hanno delle oppure ancora attenzione attenzione perché tutte le volte che si usa la parola flessibilità è una penalizzazione ma come non c'è anche una flessibilità che può essere il cittadino a richiedere e a imporre non solo l'organizzazione della società e dell'economia oppure ancora c'è stata però anche la libertà di lasciarsi andare ogni tanto fanno fatiche in modenese ma qualche volta qua e là a tratti si sono lasciati andare hanno immaginato un futuro poi hanno detto io nell'immaginare il futuro sto attaccato alla pioppa e quindi mi porto dietro tutti i miei simboli tutti i miei monumenti tutte le mie cose tutti i miei slogan tutte le mie certezze la mia tradizione però in un qualche modo sono anche pronto a guardare il futuro grazie grazie a Vittorio che è riuscito in un tempo ragionevole a dare elementi precisi e puntuali su questo lavoro che come dicevo noi mettiamo a disposizione della città per un confronto e sul quale penseremo poi di recuperare al di là della giornata di oggi anche altri momenti bene a questo punto io chiederei come era programmato tre opinioni partendo dai nostri esperti e competenti che in diversi campi potrebbero essere diciamo essere stati intervistati ma in realtà lo possono dire oggi ecco e partirei da Manuela è vero? Ti darei subito la parola Quanto tempo ho? Ah guarda dieci minuti ecco Allora io mi sono molto divertita a leggere la vostra ricerca ci ho trovato una eredità austro-ingarica anche se c'è la protesta contro la burocrazia e sulla burocrazia io ho fatto il direttore generale dell'istituto nazionale per la fisica della materia in anni meravigliosi in cui il presidente era un modenese Carlo Calandro Buonaura che abbiamo amato tutti moltissimi la burocrazia lo dice la parola stessa è potere quindi al di là di quelle che sono le regole e che si sentono molto forti più come regole etiche all'interno della società modenese la burocrazia non nasce come un fungo questa è un po' un'idea che tutti hanno diciamo però c'è la burocrazia la burocrazia la mette qualcuno perché vuole entrare nel processo decisionale esercitare il suo potere quindi secondo me la burocrazia si può smontare e bisogna che decidiamo di farlo l'altra osservazione di tipo generale è che effettivamente noi siamo più vecchi di voi perché sapete che Genova è la città più vecchia d'Italia quindi è la seconda città più vecchia al mondo però la nostra classe dirigente di cui io purtroppo faccio parte come età è attempata e questo si sente in tutta la ricerca per esempio nei confronti del digitale allora sul digitale c'è una ci sono una serie di pregiudizi e c'è una diffidenza che io pensavo che la pandemia avesse abbastanza sbloccato qui a Genova lavoravo per fare la Urban Digital Transformation l'idea che i vecchietti non possono usare il banco ma non sanno usare il telefonino devo dire che in pandemia tutte le relazioni sono state rese possibili grazie al digitale e i famosi vecchietti hanno imparato benissimo a spedire le foto a fare i whatsapp a prendere le ricette quindi non è così questo credo che sia l'effetto positivo della pandemia e soprattutto a me veniva da pensare nei giorni del lockdown cosa sarebbe stata la nostra vita se non ci fosse stato il digitale saremmo stati chiusi in casa isolati da tutto e da tutti invece abbiamo battuto le mani abbiamo mantenuto i rapporti di amicizia abbiamo creato un sacco di amicizie nuove quindi aspetti positivi di questa nuova realtà sociale del digitale secondo me ce ne sono e sono stati evidenti fortissimamente certo ci sono dei pericoli TikTok viene riconosciuto come un elemento di pericolo anche dai giovani e certo le chiacchiere da bar che in un bar normale vengono concluse dal barista che a un certo punto tira giù la sala cinesca dice vabbè adesso andiamo a dormire e invece trovano uno spazio esagerato quindi va lo strumento va utilizzato con con coscienza però sicuramente abbiamo un accesso alla conoscenza come non l'abbiamo mai avuto quindi io penso che la cultura digitale che sta nascendo che per fortuna le nuove generazioni qui una scuola appena vinto il campionato nazionale hanno scritto un romanzo a pezzi in collaborazione il digitale ha questo elemento che secondo me è molto modenese la collaborazione la condivisione lo sharing vi faccio dei commenti a spizzichi e bocconi quando si parla di nuova mobilità in Italia nessuno parla di avere il car sharing di condominio io vivo in un condominio fortunato dove ci vogliamo tutti bene ci prestiamo l'uovo quando manca perché abbiamo lo whatsapp di condominio però quando ho detto sentite io ho un'età che la macchina nuova non me la compro più c'è qualcuno che vuole fare lo sharing con me eh no la macchina è una roba propria è un po' come il concetto di comprarsi l'appartamento io spero che le nuove generazioni invece l'appartamento fino a 50 anni non se lo comprino e siano pronte ad andare in giro per il mondo eh io vedo molto bene in una società modenese l'idea che si hanno tre macchine in un condominio nel nord Europa lo fanno e invece vedo che anche nella ricerca dice sì dobbiamo usare la mobilità pubblica fare il car sharing però poi uno deve andare a avere la macchina per andare a farsi un viaggio tanti pregiudizi li ho trovati anche rispetto al commercio il commercio sta cambiando vogliamo o non vogliamo eh perché i ritmi della vita e le disponibilità sono cambiate è chiaro che se mia sorella è un verduriere bravissimo che ha della roba buonissima ma io nove volte su dieci quando vado è chiuso perché non so mai quando è aperto quindi a mio parere sopravvideranno i negozi di di prossimità o specializzati o quelli dei generi di prima necessità ma la grande distribuzione non è il demonio dovremo imparare ad usare diversamente i piani terra e lì io lancio un'idea eh come succede all'estero come succede anche in altre città eh i ragazzi ormai non studiano più a casa soprattutto quelli del liceo vanno al bar che è molto meglio che studiare da soli a casa o studiare in due io lo chiamo co-studying eh quello è l'elemento di contatto e di socialità molto importante c'è una criminalizzazione della dad eh ma in fondo pensiamo che il maestro Manzi con la dad ha insegnato a scrivere agli italiani dopo guerra con la televisione non c'era neanche nessuna interattività io credo che la dad sia inarrestabile magari aggiungiamo più attività di tipo sperimentale questo le città lo possono fare creare dei luoghi dove si fa lezione di chimica e fisica cucinando io lancio delle idee perché mi piace l'innovazione e in questo appello alla cultura è bellissima l'immagine che è uscita cultura e formazione sono driver del cambiamento però attenzione perché tutti noi tendiamo a identificare la cultura col nostro passato magnifico italiano eh facciamo un po' cultura con la marcia dietro innestata e un po' di tre la mano tirato e quando facciamo cultura per i giovani la organizziamo noi ecco io credo questo era il contributo che avevo dato forse la prima volta che ci siamo parlati io penso che noi ce la dobbiamo giocare di più dando molto più le chiavi della macchina in mano ai ragazzi facciamogli fare una cultura che non capiremo una cultura diversa che non condivideremo noi lo dobbiamo solo aiutare a fare una cosa di qualità ma non creare noi grandi gli eventi culturali per i giovani perché non riusciremo ad essere innovativi l'ultima notazione no ci sono due notazioni sulla sanità la sanità noi chissà perché non riusciamo a trovare una via anni fa Mario Monti aveva proposto un'iniziativa molto intelligente che era quella di creare dei centri medici aperti 24 ore su 24 questo consentirebbe di avere più presenze e di sgravare i pronti soccorso di un sacco di stupidaggini per le quali finiamo il pronto soccorso che non sappiamo dove andare perché di sera puoi chiamare la guardia medica ma non è la stessa cosa e quindi quella è una idea sulla quale pensare cercare di aggregare gli studi medici che oggi sono in anonimi appartamenti con degli orari mediamente confusi e inaccessivi e invece i centri medici potrebbero essere una risposta l'ultima è lo smart working e qui vi lancio un appello oggi si parla si tratta di smart working tra sindacati che non sanno cosa sia e organizzazioni governative imprenditoriali che non sanno cosa sia perché questa è veramente la grande rivoluzione del nostro secolo questa è una rivoluzione industriale straordinaria che ognuno legge con i concetti vecchi quindi le aziende ah bello pago meno affitti meno spese di gestione non gli do più il buono pasto e l'altro che dice vabbè però mi devi controllare le ore perché se no io finisce che non riesco neanche a mangiare una pasta asciutta perché devo essere sempre a disposizione ecco io credo che questo dello smart working dovrebbe essere un processo culturale collettivo molto importante e al quale dedicare investimenti e sforzi per capire come possiamo formulare dei modi di lavorare diversi che non significano solo che è lavoro telematico ma anche proprio un approccio completamente diverso e direi che il fordismo è morto il covid ha cancellato il fordismo ci sarà sempre una presenza di addetti alla produzione però che guideranno sempre più macchine e ci sarà sempre più personale dedicato a pensare e progettare forse anche con un po' più di tempo libero per vivere perché vivendo poi si consuma e quindi si alimenta l'economia ecco io ho lanciato un po' questi punti mi complimento per la serietà e l'attenzione con cui è stata fatta questa ricerca sarebbe bello che nel nostro paese ci fosse una classe dirigente più giovane per sentire che cosa che cosa pensa ma forse dobbiamo andare all'estero per questo vi faccio tanti auguri grazie grazie ormai diciamo dopo perché ci siamo contattati dopo che avevi anche partecipato e dato un contributo alla costruzione del bilancio di missione e triennale della fondazione di Modena avrevi il modo di vederci in presenza diciamo così perché l'unica cosa che non riusciamo a scambiare io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto sono i tortellini e dal vivo e quello lo faremo bene Franco Mosconi a te ora la parola grazie subito buonasera a tutti e grazie innanzitutto a Roberto Guerzoni alla fondazione per l'invito mi associo ai complimenti della dottoressa Rata nei confronti di Vittorio Martinelli per la bella ricerca qualitativa come lui ha voluto sottolineare all'inizio ma poi in fin dei conti ci sono anche tanti numeri che parlano quasi da soli e voglio rimanere anch'io nei dieci minuti e Roberto ti prego di segnalarmi quando li sto sforando perché vorrei guardare la parte del lavoro che è stato fatto su Modena 2040 che ha più direttamente a che fare con le cose che seguo e che riguardano il sistema delle imprese il sistema manifatturiero Emiliano Romagnolo in questo sono stato facilitato perché Manuela Rata ha già parlato di altri piani e quindi mi sento in qualche modo esentato allora io vorrei dire questo voi avete fatto bene a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a dire guardiamo al 2040 quello che in questi pochi minuti voglio cercare di dimostrare è che i 5 trattino 6 anni fondamentali per plasmare la società dei prossimi decenni sono quelli di adesso in particolare il biennio 2026 2027 e lo dirò alla fine perché quindi da oggi sono 5 o 6 anni per fare a Modena in collaborazione con le altre città emiliano romagnole e a salire con la regione col governo e con l'unione europea alcune cose fondamentali altrimenti la prima delle due priorità che Vittorio Martinelli ha detto cito testualmente cultura e formazione nelle prime parti capitale umano alla metà educazione e formazione alla fine che è un po' il filo rosso che lega rischierebbero di rimanere lettera morta e allora come cerco di dimostrare questa cosa a mio modo di vedere nella nella società che viviamo oggi ci sono tre tendenze che hanno lungo la via Emilia una loro declinazione io non so se è la migliore declinazione a livello nazionale io penso personalmente di sì che sia la migliore declinazione a livello nazionale ma insomma autogiudicarci potrebbe apparire quali sono queste tre tendenze vado di corsa la riscoperta della manifattura ovviamente evoluta come chiave del progresso tecnologico una intelligente politica industriale per stimolare gli investimenti in conoscenza la ricerca e sviluppo il capitale umano terzo il ruolo della comunità quella che l'economista di origine indiana uno dei massimi economisti mondiali il professor Rajan chiama il terzo pilastro fra stato e mercati nel suo famoso libro le chiama comunità di prossimità queste tre tendenze hanno una declinazione ragguardevole la manifattura avanzata la nuova politica industriale il ruolo delle comunità a Modena e lungo le altre città che si snodano lungo la via Emilia e quindi dico subito una cosa che da non modenese penso di potermi permettere nel senso che il lavoro è eccellente gli manca credo forse volutamente il fatto che molte delle cose più importanti che vi proponete di raggiungere potranno essere raggiunte solo nel quadro di quella cooperazione che citavo di Anzi con le altre città emiliano romagnole con la regione con il governo e con la commissione europea ci torno fra un attimo la via Emilia la manifattura pesa un terzo del valore aggiunto è una manifattura che è guardata con rispetto anche a Milano per intenderci perché alla forza nella meccanica avanzata ha saputo unire lo sviluppo verso le tecnologie dell'informazione e verso le scienze della vita queste sono le grandi traiettorie tecnologiche che stanno plasmando il futuro a Modena e lungo la via Emilia ci sono tra l'altro da queste traiettorie tecnologiche poi nascono nuove attività di servizio non sono solo importanti in sé come attività industriali e pesano ripeto oltre un terzo del valore aggiunto ma ognuno di noi si domandi quanto di quel restante 70% che sta nei servizi dipende da quello che domanda la manifattura avanzata tantissimo ecco allora la tendenza è verso gli investimenti in conoscenza qui casca l'asino ed è qui che nessuna città emiliano emiliano romagnola per quanto brillante ed efficiente può farcela da sola mi spiego con alcuni semplicissimi dati la ricerca gli investimenti in ricerca che sviluppo per carità indicatore che ha tanti limiti molti miei colleghi questionano sul fatto che dà conto solo della ricerca codificata e non della ricerca informale sia come sia è l'indicatore migliore che abbiamo per dire in quei laboratori con quel capitale umano con quelle tecnologie si investe X per il futuro basti pensare alla corsa sui vaccini i laboratori ricerca e sviluppo sono quelli dei due medici di origine turca che a Magonza in Germania con un finanziamento di 500 milioni di euro del governo federale tedesco sono per primi arrivati al nuovo principio attivo dei nuovi vaccini quelli con l'MRNA messaggero la BioNTech è fondamentale come sappiamo tutti per il vaccino della Pfizer senza il lavoro di ricerca e sviluppo della BioNTech non avremmo il vaccino della Pfizer bene la ricerca e sviluppo pesa in Italia sul PIL l'1,4 l'Emilia Romagna Giancarlo Muzzarelli è stato un apprezzato assessore alle attività produttive lo sa bene è sopra media l'ultimo dato a disposizione ci dice il 2,1 bene l'1,4 dell'Italia noi lo confrontiamo col 3 della Germania investiamo meno della metà dei Getteleschi il 2,1 dell'Emilia Romagna noi abbiamo la giusta ambizione la giusta ambizione di confrontarlo col Baden-Württemberg che pur essendo più del doppio come stazza dimensionale è il land tedesco col quale siamo soliti confrontarci per la struttura economica il ruolo della meccanica avanzata dell'automotive bene noi investiamo il 2,1 del PIL in ricerca e sviluppo il Baden-Württemberg una cifra compresa fra il 5 e il 6 per cento del loro PIL i laureati e qui i dati sono dell'Ox e sono naturalmente riferiti solo all'Italia quelli che ho trovato in vista di oggi poi magari guardando con più pazienza ci sono anche i dati regionali la percentuale dei laureati sulla popolazione tra 15 e 64 anni di età sono i dati ufficiali dell'Ox l'Italia il 17,4 per cento la media UE è il 29,5 per cento se anche l'Emilia Romagna è un po' sopra media e io penso che sia sopra media per la grande rete di università che abbiamo per l'attrazione che esercitiamo nei confronti degli studenti delle altre regioni però la distanza è notevole gli innovatori e chiudo e arrivo alla morale della favola è uscita il 2 luglio la classifica delle regioni più innovative d'Europa il problema è che ogni regione è dentro un paese e quindi anche qui mentre i lender tedeschi sono tutti lassù in alto nella graduatoria e giocano tutti la Champions League se mi si consente la metafora calcistica l'Italia è di suo un innovatore moderato secondo la tassonomia della Commissione Europea la Germania è un innovatore forte ma dentro l'Italia innovatore moderato l'Emilia Romagna arriva prima l'Emilia Romagna è la prima regione italiana in base all'indice di innovazione calcolato dalla Commissione Europea se giocassimo ancora e quelli che hanno la mia età che si interessano di calcio giocassimo ancora la vecchia Coppa dei Campioni si qualificherebbe solo l'Emilia Romagna per la Coppa dei Campioni però è settantaseiesima nella graduatoria delle duecentoquaranta legioni europee ha però e anche qui lo dico a tanti degli ospiti che hanno avuto un ruolo attivo in regione e in alcuni importanti istituti regionali dal 2014 al 2021 l'indice di innovatività dell'Emilia Romagna ha fatto un balzo del 34,2% gli investimenti in conoscenza un po' come la semina dei contadini hanno bisogno di tempo per dare frutto ma se la semina è fatta bene in capitale umano e in ricerca e sviluppo e in tecnologie dell'informazione la semina darà sicuramente frutto abbiamo ora la grande chance del piano nazionale di ripresa e resilienza al 2026 e la grande chance della strategia di specializzazione intelligente della regione al 2027 ecco perché il biennio 2026 e 2027 è a mio modo di vedere quello cruciale per costruire la società di domani in questi cinque o sei anni getteremo le basi per ciò che saremo nel 2030 e credo anche nel 2040 il presidente Bonacini ricorda spesso lo ha fatto anche di recente in un forum del Corriere della Sera che è impensabile in un paese fatto come l'Italia il paese delle cento città possiamo dire ma nel senso buono non solo dei campanili ma anche del policentrismo che è un tratto tipico della nostra storia e della nostra geografia che è impensabile investire 200 erotti miliardi del PNRR senza il ruolo delle regioni e dei comuni allora qua un comune come quello di Modena che ha filo da tessere deve tessere perché sia nel PNRR che in S3 nella strategia S3 della regione la più parte degli investimenti sono in conoscenza sono verso le nuove tecnologie sono verso il capitale umano è una chance da cogliere assolutamente proprio per rafforzare quello che di buono è stato costruito e io quindi credo e chiudo che i legami fra le nostre città lungo la via Emilia debbano essere rafforzati le cooperazioni fra le università e le scuole tecniche superiori debbano essere rafforzati i legami fra le associazioni imprenditoriali come hanno saggiamente fatto la Confindustria di Modena e la Confindustria di Bologna che si sono messi assieme i famosi corpi intermedi vadano rafforzati le imprese soprattutto da quelle medie in su e le banche soprattutto da quelle medie in su nelle loro strategie di sviluppo che magari sono basate a Bologna a Modena a Reggio a Parma ma per loro natura guardano oltre i confini regionali e nazionali mentre questi altri organismi vitali della società le città le università le scuole tecniche hanno bisogno di avere una volontà a cooperare maggiormente io credo che se questa volontà troverà espressione la via Emilia non solo continuerà a giocare il ruolo che già gioca nel paese e che tutti riconoscono ma potrà rafforzarlo perché ha quell'ingrediente di cui dicevo all'inizio il terzo da noi non c'è solo uno straordinario spirito imprenditoriale e gli imprenditori sono loro ad averne merito non siamo né noi accademici né altri sono soprattutto loro ma c'è uno straordinario spirito comunitario che magari non può essere catturato da dei numerini e magari tanti miei colleghi vanno in crisi per questo perché devono tutto catturare con i numeri lo spirito comunitario è nelle nostre città aiuta a tenere conto di aspetti che riguardano la vita delle persone io credo che in questo ci sia uno spirito emiliano che deve venire maggiormente fuori in fin dei conti si va sul sito della presidenza del consiglio e si cerca l'intervento del presidente Draghi in emilia romagna era il martedì primo giugno nel testo che hanno messo ufficialmente hanno giustamente aggiunto le due frasi che ha detto abbraccio quando ha parlato nell'azienda a fiorano modenese e in quei due capoversi non ve li sto a leggere perché è tardi per due volte cita la visione del mondo che voi avete voi emiliano romagnoli avete io penso che se saremo un po' più consapevoli che abbiamo una visione del mondo potremo contribuire a costruire un mondo un pochino migliore di quello di adesso grazie grazie a te Franco come sempre non solo ci hai dato degli spunti interessanti ma credo hai richiamato degli elementi di fondo della nostra realtà bene per il terzo intervento Elisa tocca a te come dicevo immagino che sei a Roma perché vuoi festeggiare il 14 luglio se non mi ricordo bene sono a Roma per festeggiare il 14 luglio anche a te dieci minuti ciao dieci minuti sono velocissima e tenete tenetemi sgridatemi se vado oltre allora intanto la ricerca è davvero molto interessante perché affronta davvero in maniera trasversale tutti i temi e tutte anche tocca diverse sensibilità io ho deciso che stasera voglio rompere le scatole e dare una lettura diciamo diversa rispetto a quella che ha dato il mio amico Franco con cui tante volte ci siamo confrontati in altri contesti trovandoci molto d'accordo e andrò per pillole un po' come ha fatto la professoressa Rata perché davvero se no sono troppe le cose e io vorrei partire dalla cultura e da questo dato questa questa prima risposta che mi ha molto confortata ma che io leggo in questi termini è stato chiesto agli intervistati cosa si aspettano nel 2040 e come deve essere la Modena del 2040 e dal mio punto di vista voglio leggere questa risposta come la risposta di qualcosa su cui c'è ancora da fare da questo punto di vista mi immagino e lo dico anche da persona che vive questo territorio che chi risponda si senta assolutamente forte sul piano dell'innovazione tecnologica sul piano economico della manifattura di quello che è stato fatto certamente non è mai abbastanza e naturalmente l'innovazione è velocissima quello che oggi è il medio termine una volta era a lungo ma esprima anche un bisogno e mette al primo posto appunto la cultura e al secondo e la formazione cultura e formazione sono anche dal mio punto di vista i due aspetti che maggiormente consentono di risolvere le disuguaglianze no? nel senso che sono possono essere approntati sia top down che bottom up e dopo su questo voglio dire una cosa per andare sul solco di quello che ha già detto la professoressa Rata e però consentono che cosa? consentono di rendere tutta la città un piano terra no? di 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 far vivere la città a tutti indipendentemente e nello stesso modo indipendentemente da quello che è la posizione di partenza il contesto di partenza in questo la cultura è la più e la formazione lo deve essere tant'è che poi sulle risposte sulla formazione si richiede la formazione permanente quindi come la vera capacità il vero luogo dove si può ridurre qualsiasi distanza e proprio in questo senso a me piace immaginare che la risposta sia arrivata come quello su cui c'è ancora bisogno di fare il problema è come farlo nel senso che noi siamo abituati a una cultura che tendenzialmente è vero no? questo quella nostra quella di chi non è più giovanissimo quella che di chi se la se la immagina per come l'ha già vista mentre i ragazzi più giovani immaginano forme culturali anche attraverso naturalmente strumenti tecnologici molto diverso dalla nostra delle declinazioni molto più complesse a volte anche non comprensibili no? d'altro canto non erano comprensibili neanche i futuristi quando viaggiavano prendevano l'aereo e facevano oppure facevano l'aeropittura facevano cose che per gli altri loro contemporanei non erano tanto comprensibili e quindi sono penso che la difficoltà e quello su cui è necessario lavorare è il fatto che a fronte di una cultura che avrà le declinazioni consolidate e quindi risponderà a chi è abituato a una cultura che si declina più classicamente c'è anche una bella risposta sul centro storico e i beni culturali da rivedere anche in questi termini la cultura però dovrà anche essere uno spazio lasciato al movimento dal basso perché è il movimento dal basso che riesce anche a ridurre questi divari che sono appunto divari anche culturali divari non nel senso di prima ma proprio divari di partenza divari sociali c'è tutto un tema trasversale che non esce se vogliamo in maniera diretta ma che è importante che è quello delle diseguaglianze all'interno di questa ricerca se vogliamo tranne in alcuni punti non esce apertamente ma è uno degli altri temi noi siamo abituati a declinare le diseguaglianze in modi molto tradizionali ma il covid ci ha fatto conoscere delle diseguaglianze che sono anche dovute semplicemente a un digital divide al fatto che io sono nelle condizioni di poter avere la fibra di poter lavorare confortevolmente da casa e tu no anche se sei a pochi chilometri da me e quindi quel diritto alla facilità quel diritto alla facilità che è uno dei diritti che viene declinato e comunque è un diritto che si piazza in una buona posizione io lo vedo proprio come una richiesta di una semplificazione che non è quella a cui magari pensiamo quando pensiamo alla burocrazia ma un diritto alla città in cui vivere sia facile in cui accedere alle risorse ai patrimonio comuno ai common goods la cultura per eccellenza come common goods sia facile sia possibile per tutti cioè un'accessibilità semplificata e su questo vado veloce forse riesco anche a finire prima dei dieci minuti mi ricollego per dire una cosa sulla burocrazia o forse un po' anche perché insomma è un campo di cui mi occupo anche professionalmente allora è interessante questa questa lettura distinta no? tra le regole di cui ci si immagina si abbia comunque bisogno per il cambiamento le regole libertà no? libertà versus regole e poi questo problema della burocrazia quando in realtà aprimo a Chito mi verrà da pensare che le regole sono anche no? un qualcosa che poi viene razionalizzato circoscritto attraverso la l'esperienza burocratica beh allora io dico sempre che la burocrazia non è le abbiamo dato un'accezione negativa ma la burocrazia nasce come un sistema che teoricamente dovrebbe consentire a tutti di essere trattati nello stesso modo quando si relazionano con lo Stato in tutte le sue naturalmente in tutti i suoi livelli istituzionali e è la degenerazione della burocrazia il problema cioè una burocrazia che diventa fine a se stessa o che diventa una macchina a volte abbastanza infernale che non semplifica ma complica o che a volte addirittura sembra irrazionale da chi la legge dal di fuori non la conosce allora forse il tema della smontare la burocrazia uso le parole della professoressa Rata smontare la burocrazia la burocrazia non va smontata dal mio punto di vista so che sono assolutamente fuori moda in questo la burocrazia non va smontata del tutto perché è diciamo è la la gemella da un certo punto di vista anche della democrazia e della uguaglianza nei confronti della relazione istituzionale ma va riportata al suo fine naturale al suo primo fine che era quello di consentire a tutti di non essere di non trovarsi davanti a una discrezionalità eccessiva del sistema amministrativo no? solo che da questo che è sacrosanto cioè da una legge come la 241 del 90 e sicuramente qualcuno se la ricorda che è stata la migliore e forse unica legge fatta davvero bene che abbiamo scritto in Italia sul tema della burocrazia ci abbiamo impiegato 30 anni per applicarla ecco da lì una legge semplice che consentiva finalmente al cittadino di dialogare alla pari con l'amministrazione dopo da lì una serie di importantissime sovrastrutture di normazione che l'hanno resa ipertrofica e hanno portato da tutt'altra parte cioè al punto in cui dietro a questa enorme quantità di norme leggi circolari e determinazioni non si riesce più a leggere qual è il fine ultimo istituzionale che poi dovrebbe essere l'interesse pubblico e invece si torna di fatto a una discrezionalità perché quando le norme sono troppe e tutti le possono interpretare e sappiamo che l'interpretazione non è mai autentica perché il legislatore è un soggetto astratto ecco allora in tutto questo quello che può fare un'amministrazione però è parziale perché si muove all'interno di una quantità di vincoli sovraordinati che è non che è rilevantissima no? perché non c'è la possibilità dell'amministrazione comunale di incidere davvero su tutti questi piani l'amministrazione comunale può incidere su alcuni di questi piani e sicuramente lo può fare sulle traiettorie e le policy le politiche che le sono più connaturate che sono anche quelle devo dire del sentire della propria città e quindi il centro storico un'urbanistica possibilmente semplice da affrontare da approcciare una cultura che sia anche il primo modo per eliminare le diseguaglianze per consentire a tutti l'accesso alle stesse agli stessi livelli di formazione la formazione si fa anche attraverso la cultura fermo restando naturalmente tutto quello che è solido e che deve continuare ad essere implementato non è diciamo non è non è una critica ma è una lettura di quello dove i luoghi diciamo gli ambiti sui quali secondo me ancora si può lavorare ripeto io ho trovato davvero molto interessante tutto questo soprattutto soprattutto per questa diciamo filo che forse si legge solo in trasparenza in alcuni momenti rispetto alla diseguaglianza un'ultima cosa anche l'ambiente che viene comunque posto tra i primi temi l'ambiente è un altro di quegli dei common goods che vuol dire uguaglianza è uno di quegli aspetti che se migliora migliora per tutti indipendentemente dalla propria condizione è lo stesso la stessa diciamo la stessa caratteristica della cultura i vostri interlocutori privilegiati hanno dato delle risposte che hanno un tratto in comune il tratto in comune è il fatto che sono proprio i beni comuni finisco dicendo per fare però questo occorrono moltissime risorse perché sia l'ambiente che la cultura che la formazione non sono settori che hanno che remunerano facilmente l'investimento e non si può da questo punto di vista prescindere dal pubblico quindi io leggo in questo una grande richiesta di presenza del pubblico che lavori proprio su questi contesti dove anche il privato per quanto possa intervenire da solo fa fatica ma con la necessità di riportare la burocrazia a quella che era prima ovvero la capacità di non essere se non correttamente discrezionali e così spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio davvero molto perché è stato molto interessante poter leggere la vostra ricerca buona grazie a questo punto parola a Paolo Acchiamicchioli presidente della fondazione di Modena che è uno dei soggetti diciamo così istituzionali anche se in forma privatistica ma in realtà molto un finalità molto pubblica anzi in questi anni tante pubbliche e che tra l'altro diciamo grazie al proprio contributo noi abbiamo sviluppato nel corso di questi anni questo lavoro sull'osservatorio via Emilia e sulle ricerche grazie Paolo grazie a te Roberto grazie al dottor Martinelli per questa interessantissima devo dire ricerca che ci dà l'opportunità lo dicevo anche questa mattina in tempi che sono ai noi spesso contaminati da logica del presente a sforzarci di immaginarci il futuro e devo dire che la ricerca ci dà davvero degli spunti molto interessanti perché io mi chiedevo se è più forte il cambio di paradigma di un'Europa del nord che decide di indebitarsi e di indebitare i suoi figli e le generazioni future per i paesi del Mediterraneo in particolare per l'Italia o se è più forte il cambio di paradigma che vede i modenesi mettere una parte dei modenesi come ci è stato correttamente indicato all'inizio nella presentazione mettere al centro delle strategie future e dei loro desiderata la cultura e la formazione perché è in dubbio che l'associazione nell'immaginario collettivo principale di noi modenesi è quella che ci riguarda sulla cosiddetta cultura del fare allora penso davvero che emerga una rottura una rottura storica che poi può davvero diventare un'opportunità meravigliosa per il nostro futuro io leggo con grande ottimismo questi risultati perché ci stiamo accorgendo che tra il fare cultura e cultura del fare i modenesi non fanno più distinzione che mettono insieme queste due dimensioni e non può che essere così mi verrebbe da dire e qui permettetemi la pandemia non c'entra nulla perché questi erano processi già avviati ormai da diversi anni non c'entra nulla perché il successo o l'insuccesso delle comunità dei paesi dei continenti è indubbiamente legato alla qualità del capitale umano oggi più che mai l'attrattività di un luogo dipende dalla capacità di quel luogo di promuovere intelligenze collettive e non intelligenze soggettive quindi intelligenze di comunità intelligenze plurali intelligenze relazionali in altri termini quello che ci dice questa ricerca è che ci stiamo riposizionando su una nuova forma di umanesimo di un umanesimo che deve essere declinato e attualizzato sulle sfide del contemporaneo la sfida del digitale sono sfide tecnologiche attenzione sembra una contraddizione di termini ma in realtà è così stiamo io penso fortunatamente per noi ritornando dopo alcuni secoli di ricerca di una iper specializzazione ad una ricerca di competenze e di persone che affrontano i temi tipici delle sfide del quotidiano da un punto di vista universale e quindi che mettano al centro un'idea di cultura questo è ciò che ci dice la ricerca che sia davvero promotrice di uno sviluppo di comunità e qui ci sta un po' io credo la sfida che tutti noi dobbiamo provare a costruire perché la cultura non dà risultati nell'immediato guardate vi faccio un esempio peraltro molto attinente al luogo in cui siamo la fondazione di Modena dal 2017 17 18 19 ha finanziato l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia per un progetto di terza missione universitaria in ambito umanistico già questo è un elemento particolare perché di solito la terza missione universitaria si fa in quelli che tendenzialmente vengono definiti dipartimenti duri quelli ingegneristici quelli legati alle imprese ma perché il patrimonio culturale non può essere messo in relazione con il luogo l'istituzione preposta alla ricerca in ambito umanistico culturale da questo progetto sono nate le digital humanities che qui trovano il centro interdibattimentale del nostro ateneo sulle digital humanities che mette a sistema giovani abbiamo parlato la professoressa Rata ci ha sfidato a coinvolgere i giovani e ha perfettamente ragione abbiamo messo insieme giovani poco più che ventenni che provengono da settori scientifici disciplinari lontanissimi gli informatici che lavorano sull'intelligenza artificiale a servizio degli umanisti che capiscono cos'è una notazione che leggono il latino e che conoscono la storia ebbene questo è un progetto che ha raccolto negli ultimi 18 mesi 4 milioni e 700 mila euro non dalla fondazione di Modena li ha raccolti dalle istituzioni europee dalla nostra regione da privati che hanno inteso donare a questo gruppo di ricerca che lavora sulla conservazione di un'identità ma in modo molto particolare perché noi stiamo donando il nostro e uso non a caso il termine donare il nostro patrimonio archivistico più importante di comunità al mondo perché questa è la potenza di un umanesimo digitale cioè noi riusciamo a trasporre libri codici spesso inaccessibili anche per gli esperti alla comunità di ricerca mondiale alla comunità educativa mondiale e questo credo che sia un processo che favorisce la democratizzazione della cultura perché riduce le distanze perché crea uguaglianza perché crea pari opportunità è un esempio di come dobbiamo provare a muoverci attraverso interpretazioni fattive concrete sfidando con grande serenità anche il principio che errare umano è come ci dicevano nell'antichità perché non ve dubbio che le fondazioni di origine bancaria sono luoghi di sperimentazione e la sperimentazione ha sempre un costo muove da una dimensione precostituita tendenzialmente spesso e volentieri incardinata su pratiche significativamente datate nel tempo soprattutto in ambito culturale questo va detto e cerca di portare innovazione nei modelli di fruizione e nei modelli di divulgazione e approfondimento scientifico di questi patrimoni l'altra dimensione è quella della formazione va da sé la formazione la formazione continua come è stato detto deve diventare una formazione permanente e da questo punto di vista è stato fatto credo un passaggio molto importante la scuola va aiutata cioè noi credo in questo paese dobbiamo renderci conto che dobbiamo provare a fare un investimento di sistema sulle comunità educanti e quindi su dei modelli aperti collaborativi che aiutino tutte le generazioni tutte le fasce d'età a rimettersi in discussione perché stiamo vivendo e continueremo a vivere tempi nei quali lo sviluppo delle autonomie delle autonomie personali è indubbiamente legato alla capacità di comprendere nuove conoscenze nuove competenze e questo rappresenta una sfida credo enorme intanto per le istituzioni preposte alla formazione ecco qui siamo all'interno di un luogo che ha una valenza architettonica molto molto importante sono tenaglie educare da educere significa tirare fuori nelle tenaglie servono a fare due cose tendenzialmente la prima è quella di tirare fuori di estrarre dall'altra parte è quello di unire se vogliamo usarle come allora noi vorremmo provare qui e lo stiamo cercando di fare in quei laboratori che avete visto entrando quei modelli di educazione complementare non sostitutiva in collaborazione con le istituzioni con innanzitutto i comuni della nostra provincia in partire ovviamente dal comune di Modena ma anche con la direzione provinciale scolastica per cercare di fare in modo che insegnare la fisica lo si possa fare anche attraverso delle sperimentazioni pratiche perché oggi noi perdiamo tanti ragazzi tante ragazze per un problema di orientamento dobbiamo cercare di avvicinare questi ragazzi ad una sfida quella del futuro che non è più così semplicemente codificata nelle professioni che per tanti decenni hanno in un qualche modo ben definito il mondo del lavoro come sappiamo tutti nei prossimi dieci anni ci saranno lavori che non abbiamo ancora inventato professioni che non abbiamo che non stiamo nemmeno immaginando e quindi bisogna dare degli strumenti ai nostri giovani e i primi strumenti sono strumenti di comprensione delle complessità ma devo dire devono anche essere strumenti che in modo molto leale molto trasparente dicano ai nostri giovani che è finita quella fase storica di quel fordismo in cui studiavo poi lavoravo e poi smettevo viviamo in mondi interconnessi e i mondi interconnessi sono mondi nei quali lavori studi fai attività sociali ecco fai attività sociali il professor Mosconi ci parlava di comunità di prossimità e voglio davvero chiudere su questo punto perché la formazione non è semplicemente un elemento che determina la capacità competitiva di un sistema noi abbiamo certamente alcuni ritardi su alcuni temi quelli della ricerca è stato detto molto chiaramente ci sono dei modelli in altri paesi dell'Europa dove si è superata una certa logica di frammentazione in Germania tra i vari lender e si è come dire imposto delle logiche di investimento strutturate ma al tempo stesso anche ben definite e codificate che evitano sovrapposizioni su questo credo il paese abbia un po' di ritardo e su questo deve lavorare però la formazione e torno lì non è solo un tema di competitività è un tema di sostegno e di supporto alle fondamenta della democrazia di un paese perché escludere oggi le nuove generazioni dalle nuove sfide educative dalle complessità del contemporaneo non significa tanto e soltanto ridurre la competitività di una comunità di un paese ma significa mettere in discussione la resilienza democratica di un paese perché il mancato accesso alla conoscenza significa oggi esclusione dalla vita sociale e noi questo devo dire lo stiamo contrastando con una logica di comunità che penso veda in un lavoro davvero collettivo di squadra di rete istituzioni al fianco degli enti pubblici al fianco del sistema scolastico al fianco dell'università per cercare di lavorare in squadra lavorare insieme le complessità non si affrontano da soli si affrontano con delle visioni condivise e con dei modelli di squadra un po' come ha fatto l'Italia nei giorni scorsi insomma in cui tutti si portavano addosso la loro piccola grande responsabilità e questo è quello che cercano di fare le fondazioni di origine bancaria perché nel quadro delle libertà che affronteremo nel prossimo festival filosofia le fondazioni di origine bancaria hanno dato dimostrazione era il 2003 e un governo ipotizzava che in un paese in cui la leva del debito pubblico era l'unica leva per costruire crescita apro e chiudo parentesi in questo paese sono più i soldi di spesa corrente spesi per interessi sul debito pubblico che non spesa sulla formazione e sull'educazione per cui questo è un dato oggettivo allora devo dire che le sentenze della Corte Costituzionale la 301 e la 302 del 2003 sanciscono che le fondazioni di origine bancaria sono organizzazioni delle libertà sociali e questo è un passaggio fondamentale perché ancora una volta se la formazione è un cardine della democrazia lo sono anche i corpi intermedi perché noi facciamo di partecipazione pluralismo il nostro quotidiano e quindi un corpo intermedio sta alla democrazia quanto un organismo sta alla sua capacità di immunizzarsi da fenomeni che tendono a comprimere il proprio ruolo il loro ruolo ecco credo che su questo le fondazioni abbiano dato una dimostrazione di capacità di capacità nel complesso di un sistema che a volte tende un po' a cannibalizzare fatemela dire così i corpi intermedi che sono fondamentali grazie ancora per la ricerca e buon pomeriggio a tutti grazie grazie Paolo i tempi del nostro lavoro sono entrati in conflitto con l'organismo del consiglio dei ministri e quindi il ministro Bianchi non può collegarsi con noi in diretta però ci teneva a far sapere la sua opinione e quindi ci ha mandato un suo intervento che adesso mandiamo in onda e lo ringrazio come ho già fatto personalmente per questa attenzione ringrazio il sindaco di Modena l'amico Giancarlo Muzzarelli e Riccardo e Roberto Guarzoni presidente della fondazione per questo invito a discutere di questa importante importante ricerca su Modena 2040 in cui una serie di persone che sono presenti nella vita della città e che quindi sono testimoni della vita della città si pongono alcuni temi rilevanti che hanno però un requisito essenziale riconquistare il tempo noi viviamo in una fase che possiamo caratterizzare di questo assorto di presente dilatato in cui non abbiamo più il passato e non abbiamo più il futuro ci parla molto di futuro ma in realtà tutto viene accentrato in scansioni di tempo sempre più frantumate e sempre più corte una sorta di presente continuo che in realtà impedisce di cogliere le vere trasformazioni in cui siamo coinvolti e dall'altra parte impedisce anche di fare quegli investimenti che per loro natura necessitano di tempo ragionare sul 2040 quindi ragionare con 20 anni 18-20 anni gli anticipo oggi invece un atto di coraggio fondamentale che ancora una volta caratterizza la comunità modenese come una comunità coraggiosa ed innovatrice che cosa ci dice questo rapporto e quale riflessione mi permetto di avanzare a tutti voi in questa fase innanzitutto le voci che qui riportiamo in questa bella ricerca ci dicono che l'assit principale di modena nei prossimi 20 anni sarà la cultura sarà la capacità di costruire cultura la capacità quindi di investire sulle risorse umane e sul capitale sociale questa è una scelta molto chiara che emerge in maniera netta anche rispetto alle altre opzioni che vengono formulate in questo studio ma che cosa vuol dire vuol dire una cosa solamente importante che chi parla di un futuro così apparentemente remoto ha chiaro che bisogna investire fin d'ora in educazione in formazione in tutte quelle capacità di condivisione che consolidano la comunità questi anni di covid hanno minato fortemente questa idea di comunità e da questa idea di comunità che bisogna ripartire che questa idea di comunità poi sia trascinata da corpi intermedi così come li abbiamo conosciuto in passato oppure che il primo di questi grandi cambiamenti deve coinvolgere questi corpi intermedi che si devono immaginare sì fortemente radicati nel territorio ma anche più aperti più in grado di affrontare le grandi sfide del mondo questo mi pare evidente vi è qui come in tante ricerche che io leggo in questo periodo questa generale stanchezza fatemi dire la parola stanchezza per la politica e la convinzione che la politica non sia adeguata ai tempi che stiamo vivendo ovviamente i tempi che stanno vivendo sfidano la politica a trovare anche nuove forme di relazione nuove forme di comunicazione sicuramente ciò che emerge da questa ricerca è che io voglio attribuire forse alla modernesità più in generale a quella che è quella cultura diffusa e consolidata in tutta l'Emilia Romagna l'idea che non si può uscire da soli cioè l'idea che non si esce da soli da questa crisi e che per cambiare per ripartire per ricostruire bisogna essere non solo in tanti ma in tanti che condividono a fondo alcuni valori fondanti valore fondante è sicuramente la identità sicuramente la identità ma un'identità che non può essere più limitata al io sono perché mio babbo è stato o perché no si è perché si decide di essere si è cittadini di un territorio di un paese perché si decide di appartenere a quel territorio si decide di condividere si decide di investire la propria vita in quel territorio quindi una idea anche di appartenenza ampia che in un qualche modo traduca quello che viene individuato qui in questa ricerca come elemento fondante dell'essere di Modena cioè la capacità di fare e la capacità anche di condividere condividere se si vuole ripartire e se si vuole riconquistare il tempo bisogna condividere i valori e allora i valori dell'uguaglianza della giustizia i valori della condivisione della partecipazione valori che sembrano antichi credo che siano anche elementi fondanti che permettono in una città leader come Modena di poter assumere a livello regionale nazionale internazionale il ruolo che le aspetta quindi grazie a tutti e sicuramente tutti ci aspettiamo molto da Modena grazie bene la parola Giancarlo Vozzarelli Sindaco ci aspettiamo molto da Modena quindi proviamo a ragionare buon pomeriggio naturalmente a tutti e a tutte voi oggi è davvero un pomeriggio di lavoro proficuo e profondo per per Modena per la sua comunità io ho ascoltato con molta attenzione un contributo forte profondo che stimola pensiero azione che naturalmente io provo a far atterrare con le scelte che stiamo facendo però devo partire dai saluti saluti per me sono fondamentali perché c'è un ringraziamento agli ospiti ma soprattutto a quelli che sono intervenuti a Rata Mosconi Valeriani Cavicchioli Ministro Bianchi e il grande lavoro di Vittorio Martinelli che è stato un contributo importante lo riprenderò questo poi naturalmente un ringraziamento alla fondazione del monte al suo presidente Verzoni alla fondazione di Modena per aver lavorato questo lungo questo lungo periodo è aver portato l'amministrazione la città a pensare a pensare cosa stava accadendo a pensare al futuro con angolazioni anche diverse con visioni anche diverse che sono fondamentali per cogliere e per produrre nuovi risultati per l'amministrazione questo è stato fondamentale perché questa fotografia in movimento della città perché la città non si è mai fermata la città si sta trasformando forse anche con l'accelerazione più ampia ma devo dire che la città in questo durissimo periodo ha accolto una parte delle riflessioni soprattutto nella prima parte dello studio che ha portato a prendere atto che c'era la necessità di superare l'emergenza che c'era la necessità di una nuova ripartenza e che avevamo l'esigenza di ragionare di una nuova normalità e su questo terreno abbiamo deciso di investire anche in termini comunicativi proprio per dire alla città ragazzi siamo squadra usciamo dall'emergenza ma siamo pronti a ripartire siamo pronti a ripartire perché abbiamo deciso di investire risorse importanti 180 milioni pubblici integrati con la fondazione e con gli altri perché qui c'è una squadra per oltre 120 milioni di investimenti privati di imprese che vogliono consolidare la propria strategia sul territorio e allora così si costruiscono le condizioni del lavoro e del futuro perché quando sei nella tempesta tutto buia e si naviga a vista avere una luce una lanterna accesa ti aiuta a illuminare anche solo un metro avanti a te e fa davvero la differenza credo che questo lavoro ci abbia aiutato a stare quel metro avanti e pensate come sindaci in questo lungo periodo noi siamo stati costretti a lavorare a testa bassa per costruire le risposte nell'emergenza e abbiamo lavorato per cercare di non dimenticare la visione del futuro nonostante tutti i giorni avevamo un'emergenza drammatica da affrontare abbiamo sentito sulla pelle molto più di prima quello che il ministro Bianchi ha ricordato quel presente continuo e naturalmente faccio anche un grande bocca al lupo al ministro perché credo che il grande obiettivo che noi abbiamo tutti abbiamo parlato anche domenica a Carpi è di aprire in sicurezza le scuole a settembre a proposito di formazione a proposito di cultura noi dobbiamo far atterrare quelle scelte con l'operatività l'operatività è settembre cercare di aprire poi il 17 ci sarà il festival della filosofia ma il 13 aprono le scuole e devono aprire in sicurezza poi così possono anche partecipare al festival e a fare altro ma credo che questo sia il grande obiettivo che dobbiamo portare avanti poi naturalmente dobbiamo ricordare che è necessario tenere alta la testa avere quella visione lunga che abbiamo cercato di mettere in campo in questi anni per traguardare un futuro delineando delle chiare prospettive cercando di trovare e di capire fino in fondo i processi di cambiamento che al di là di noi sono in atto e siccome sono in atto o li governi o li subisci non è che abbiamo tanto poi giri da fare è meglio che li proviamo a governare e lo dico perché sono convinto che l'approccio di questa seconda parte della ricerca sia questo approccio qualitativo e analitica molto interessante di questo centinaio di stakeholders che ha lavorato ed è stato ascoltato testimoni privilegiati della nostra comunità io penso che possa aiutare davvero cito noi avevamo bisogno di fare questo l'ambizione e lo scopo di questa ricerca è offrire spunti e suggestioni per vedere il domani costruire un'idea di città selezionare quanto passate quanto presente vogliamo portare nel futuro guardate questo è una sintesi strategica e noi lo dobbiamo fare e per fortuna lo stiamo facendo perché perché di fronte a quelle parole noi dobbiamo fare una cosa solo accettare la sfida politica e andare fino in fondo spingere come ho detto in questi giorni con il motorvalli spingere sull'acceleratore dell'innovazione e del cambiamento in modo profondo continuativo non è semplice non è facile ma non abbiamo un'altra strada qui a Modena allora la sfida è possibile facendo due cose giocando in anticipo e giocando in squadra giocando in anticipo su tutte le visioni su tutte le strategie quando penso a Motor Valley penso a quello che diciamo sconi prima sul tema dell'università e sul tema dell'università che per la prima volta insieme alla regione siamo riusciti a mettere insieme per fare quella strategia di Mooner che è il corso per l'automotive tutti insieme è una scelta che se Dio vuole fa capire che la strada è quella della squadra della squadra del territorio della squadra regionale dobbiamo portare avanti mi limito a fare delle osservazioni rispetto anche allo schema che è stato proposto intanto la prima riflessione è l'identità di Modena adesso la metto in una battuta abbiamo una conferma della tripartizione dei modenesi quando si chiede di autodefinirsi siamo fatti così è la dinamica siamo ma non siamo abbastanza ma non siamo neanche meno e quindi siamo una realtà che comunque crede nelle proprie dimensioni cercando di fare un passo alla volta se ti presenti perché vuoi strafare non sei compreso e forse sbagli perché poi dopo la gente non ti viene dietro quindi moderati innovatori conservatori è un mix che c'è e per fortuna la direi anche così perché forse in questo mix c'è stata anche la forza di tante azioni che hanno portato alle scelte giuste alla fine con il confronto con la partecipazione che sono stati elementi estremamente importanti ma io penso anche che la politica deve tenere in considerazione in modo molto puntuale e poi naturalmente c'è il tema di ragionare di tenere presente quasi come una quinta teatrale che quando si deve prendere una decisione immediata quando si discute di piani di programmazione e progetti è bene pensarci ed è bene confrontarci per esempio io questa sera sono in una delle iniziative che abbiamo deciso di riavviare a proposito di partecipazione perché abbiamo ricominciato le assemblee pubbliche e andiamo andiamo in via Panni a ragionare del sovra sotto passo andiamo a ragionare della mobilità di quella zona lo vogliamo fare sollecitando la partecipazione perché deve aumentare la consapevolezza delle scelte che abbiamo questo lo facciamo per le piccole cose ma lo facciamo anche col piano urbanistico generale lo facciamo con la verifica che stiamo facendo in questi anni sui rioni e quindi siccome io penso che alla fine il buon senso è quello che alla fine fa la differenza quindi dobbiamo stare in quella dimensione loro in questa ricerca hanno evidenziato che i modernisti non sono né radicali né estremisti adesso non hanno paura del futuro adesso anche qui io direi credo che la maggioranza sia così anche se ho vissuto degli episodi di grandissima sofferenza sono andato ad una iniziativa di una cooperativa in divisa e di fronte a 7 milioni di investimenti per il 110% per riqualificare per realizzare gli ascensori nuovi che mettono in sicurezza per l'antisismic eccetera eccetera ho trovato gente che mi chiedeva rallenta fammi morire in pace quasi con una sorta di non sfida del futuro quindi io credo che l'altro elemento che dobbiamo affrontare è riaccendere la voglia di futuro e di vita perché noi dopo il covid dobbiamo riaccendere la forza e la voglia di vivere e di vivere insieme quindi su questo io credo che sia importante ed è importante anche quell'articolazione che è stata portata avanti sul tema comunità cambiamento regole guardate che anche questo è un elemento molto nostro c'è ancora un grande senso di appartenenza alla comunità c'è ancora l'impegno passo dopo passo al cambiamento ma c'è un impianto di regole la gente tutti i giorni ti chiede di far rispettare le regole perché? perché sono assodate come impianto culturale della nostra comunità e quindi io penso che siano parole forti molto collettive che danno l'idea di come Modena voglia andare avanti tutta unita e su questo naturalmente dobbiamo riflettere sui temi strategici allora io sono molto molto felice che sia emerso che a Modena c'è bisogno di questa forza della cultura della formazione e aggiungo anche delle tematiche ambientali perché sono trasversali in tutto in tutto il ragionamento perché? perché abbiamo bisogno di mettere la testa nelle prospettive del futuro io cercherò in breve vi chiedo scusa se sarò un po' lungo ma ho bisogno di mettere la testa su alcune delle questioni che stanno accadendo nella nostra nella nostra città mi viene da dire che noi siamo per esempio totalmente in asse con le strategie europee sia per quanto riguarda la 2030 sia per quanto riguarda tutto l'impianto della Next Generation EU stiamo lavorando siamo dentro i sei obiettivi del PNRR stiamo lavorando insieme alla regione per la strategia di specializzazione e per PORFESRE e le altre azioni abbiamo fatto una cabina di regia abbiamo già presentato primi progetti dei bandi nazionali per 70 milioni di euro perché dobbiamo partecipare alla lotteria Italia adesso la metto così perché ha ragione Mosconi senza gli enti locali credo che anche le risorse che l'Europa ci dà qualche problema e soprattutto con gli enti locali virtuosi che le risorse poi le prendono le spendono come abbiamo fatto per il programma dei quartieri come abbiamo fatto in altre strategie come stiamo facendo in altre strategie quindi dobbiamo rafforzare questa dinamica come il tema della riflessione sul tema del lavoro io credo che su questo del lavoro noi dobbiamo continuare gli approfondimenti Vittorio è stato molto bravo a rappresentare anche le dinamiche di relazioni sfidanti sulle prospettive del lavoro e cercherò anche di riprenderlo questo elemento perché per me è molto molto importante vado avanti perché nella riflessione che Vittorio ha fatto ha messo anche degli elementi molto importanti perché trovo una conferma in un elemento dei testimoni privilegiati le dimensioni di Modena sono e devono essere medie più o meno quelle attuali anche qua quanta discussione inutile a volte si è fatta sul tema dello sviluppo di Modena eccetera invece sulle dinamiche della rigenerazione della riqualificazione del dopo covid di come dobbiamo ridisegnare la città di come dobbiamo accogliere o ragionare di accogliere nuove imprese con determinate dinamiche e dare priorità alle nostre imprese all'allargamento delle strategie delle nostre delle nostre imprese e da questo punto di vista l'idea che esca anche un altro sondaggio che dice che la felicità dei modenesi sta in una dimensione umana di città in una dimensione relazionale quella che la sindaca di Parigi dice 15 minuti io dico 10 minuti perché in 10 minuti si attraversa il centro storico e quindi abbiamo bisogno di collocare lì la rivisitazione della città la rigenerazione le case della salute e tutti gli altri servizi che devono essere sempre più vicini quando parliamo di sanità l'esperienza del covid ha insegnato che le usca inventate rapidamente sono state una delle risorse più importanti perché entravano in casa quindi anche le prospettive delle sfide che dobbiamo fare è di entrare di più in casa di essere più connessi con le tecnologie ma anche con la presenza fisica perché sennò tutto diventa più complicato su questo terreno come vi dicevo il piano urbanistico generale è la grande sfida noi siamo addirittura d'arrivo stiamo finendo con i quartieri il giro di tutti i rioni stiamo elaborando molte strategie abbiamo già creato la cornice perché poi il quadro della nuova pianificazione la stiamo costruendo abbiamo aggiornato tutti gli strumenti abbiamo approvato il piano del verde abbiamo approvato le dinamiche legate alla cornice del Pums abbiamo approvato il piano digitale quanto abbiamo recuperato in questi anni su tutta la frontiera del digitale dalle reti a tecnologie a funzionalità della pubblica amministrazione a servizi di vicinanza e ancora entrare nelle case il piano per i giovani che andrà giovedì in consiglio comunale la discussione che stiamo facendo con il tema del welfare il 19 faremo una iniziativa e vi invito a partecipare perché prendiamoci cura sarà un'altra delle sfide importanti se vogliamo tenere insieme la coesione sociale che è uno degli elementi estremamente importanti su questo terreno dobbiamo andare avanti perché io penso che su questo abbiamo molto da fare e mi ha fatto piacere anche sentir parlare in modo virtuoso sul tema di come possiamo e dobbiamo essere protagonisti di come vogliamo giocare la partita del futuro con questo doppio binario se non fosse altro nel 2015 quando siamo andati all'expo a Milano abbiamo parlato del nostro territorio e abbiamo parlato in modo chiaro il messaggio cos'era Ferrari in Pavarotti Land Slow Food e Fast Car cioè la lentezza e la velocità sono due elementi che caratterizzano la nostra comunità e ancora una volta è venuto fuori che siamo lì siamo in quella sfida in quella dinamica come quando hai citato i simboli del cavallo rampante ma prudente oppure l'equilibrio del felino come la difficoltà definirlo fino in fondo credo che queste siano le sfaccettature belle che noi abbiamo dopodiché dobbiamo capire chi guida il cambiamento c'è una riflessione su questo elemento perché dobbiamo certamente esce il tema dell'economia le diverse realtà i corpi intermedi per fortuna da noi ancora i corpi intermedi sono una risorsa nei prossimi giorni abbiamo il tavolo dell'economia per la competitività la sostenibilità e la socialità che è uno degli elementi che tiene insieme il famoso gioco di squadra non sono tante le realtà comunali delle nostre dimensioni che hanno dei tavoli che si riuniscono costantemente e discutono degli elementi di trasformazione compresi il Pug e compreso gli altri livelli di pianificazione e questo per me è un pezzo dell'attraversamento della democrazia che è uno degli elementi più importanti che è partecipazione impegno presenza essere insieme per avere quella democrazia organizzata e rappresentativa lo dico perché mentre lavoriamo su questo terreno noi dobbiamo ragionare anche delle burocrazie quando parlate delle burocrazie ricordatevi una cosa i primi che pagano delle burocrazie negative adesso così lo mettiamo così sono i comuni se volete vi dico uno con Planarina sono sette anni che sono sindaco per fare sette chilometri e non abbiamo ancora sbloccato la partita perché è sufficiente che cambi una commissione a Roma per farti diventare ma per farti brillare come una trottola lo dico perché poi noi quotidianamente abbiamo a che fare con altri livelli e la discussione sarebbe lunga complicata non la voglio non la voglio né banalizzare e neanche allungare però anche qui c'è una parte di regole che poi qualcuno chiama burocrazia ma poi sono regole che sono fondamentali per far funzionare una comunità e quindi quando viene fuori che non temono adesso la dico così non temono l'oppressione ma la conservazione credo che questo sia un altro elemento estremamente importante noi dobbiamo cambiare per migliorare per velocizzare per fare delle cose dentro un impianto di regole ben chiaro i modernesi vogliono sapere quando telefonano che fanno del casino in giro vogliono sapere chi va perché non fa la multa e perché non fa le cose perché bisogna che funzioni il senso di appartenenza e funziona in termini complicati quindi io credo che dobbiamo farla più semplice questo è vero dopodiché essere sfidanti io sono d'accordissimo anche quando ero in regione noi parlavamo dei capitali e della forza dei capitali del nostro territorio a partire dal capitale umano e dal capitale sociale che sono due elementi che stanno ancora oggi presidiando il nostro sistema e la nostra forza e credo che su questo dobbiamo continuare ad agire con forza dentro le tecnologie tenendo tutti gli elementi io sono d'accordo non voglio riprendere i temi delle tecnologie ma mi interessa anche le relazioni tra le persone a un certo punto io sono uno dei cento che sono stato intervistato ho fatto una battuta adesso ve la racconto anche qui in due minuti insomma quando mi hanno chiesto di in un minuto come vuoi Modena nel 2040 ci ho pensato un attimo e poi ho detto voglio io vorrei una città ancora con le polisportive con dentro tanti giovani tecnologici ma che si parlano con in cima un'auto che vola allora qualcuno mi ha preso in giro subito eccetera eccetera allora se nel 2040 noi arriveremo in piedi e arriveremo con tante polisportive con dentro tanti giovani tecnologici ma umani adesso la dico la dico così per capirci e con la mobilità che è arrivata già a quei livelli quando qualcuno in consiglio comunale non ha preso in giro dell'auto che vola adesso organizzerò un incontro della commissione in un'azienda di Modena dove stanno già facendo i pezzi sperimentali per ragionare delle tecnologie del futuro lo dico non tanto per l'auto che vola ma per le tecnologie che stanno cambiando l'impianto anche della mobilità che stanno costruendo macchine ma chi l'avrebbe mai detto che la Ferrari ai tempi di Marchionne no? vi ricordate cosa aveva detto mai un'auto elettrica nel 2025 ci sarà la Ferrari che sarà la più bella auto elettrica del mondo perché la Ferrari deve essere sempre l'auto più bella del mondo e stiamo ragionando di una trasformazione radicale velocissima elettrica idrogeno e stiamo facendo un'accelerazione enorme su tutti questi terreni di sfida e Modena è al centro di queste sfide e noi dobbiamo stare al centro delle trasformazioni e delle sfide e quindi quella purisportiva che io ho citato è il piano terra che tu richiamavi perché bisogna ritrovarlo bisogna rafforzarlo perché mentre il digitale cambia i linguaggi le relazioni e noi naturalmente dobbiamo stare dentro a quello non possiamo arretrare rispetto a quello ma dobbiamo lavorare anche su tutti i linguaggi però dall'altra parte il tema della presenza fisica farà la differenza sempre di più io credo che su questo terreno noi dobbiamo lavorare mi avvio verso le conclusioni io condivido totalmente questa riflessione sul piano terra e guardate noi abbiamo deciso col piano urbanistico generale di fare molti incontri nei rioni perché per noi la città sarà la somma dei rioni strategici che diventeranno città e la città che è la somma dei rioni che sono grande che fanno grande la città cioè sarà un mix straordinario che dobbiamo mettere in rete dimensione dei servizi vigilanza sicurezza vicinanza insomma elementi di strategia e dentro lì ci sta la nuova sanità cosa c'è detto il covid sanità pubblico universalistica adesso nessuno la tocca fino a prima del covid c'era chi voleva buttarla per aria adesso è diventata per fortuna un riferimento strategico del nostro paese adesso dobbiamo avvicinarla le case della salute le osco l'ospis eccetera dobbiamo avvicinare dobbiamo garantire servizi sempre più vicini perché c'è una trasformazione dentro quella sfida della longevità e della denatalità che deve portare Modena a ritornare ad essere attrattive funzionali in un disegno di strategico di prospettiva e su questo dobbiamo intrecciare ciò che è piano terra ciò che è attrattività perché le due cose devono diventare un altro pezzo della nostra comunità per ritornare a vivere se no la partita è complicata perché se siamo ritornati alla denatalità del 1918 noi non abbiamo un grande futuro se non attraiamo nuovamente e se non rigeneriamo e ridisegniamo la città che deve essere ancora più bella e ancora più vivibile perché questo è ciò che dobbiamo portare a compimento quindi accettare la sfida del cambiamento fino in fondo e cercare di farlo in quella dimensione di sfida di quel capitale umano e di quel capitale sociale che farà ancora la differenza e per esempio vado proprio davvero alle conclusioni sul tema della scuola io ci ritorno perché oltre alla sfida di tenerla aperta cosa dobbiamo fare ne parlo spesso anche con l'assessore colla con la regione noi dobbiamo evitare di lasciare scappare un solo ragazzo dalla scuola noi dobbiamo fare un'operazione per stimolare le capacità di ogni singolo ragazzo per fare ciò che meglio lui vuol fare dalle superiori a ITS Maker all'università all'intreccio al ritorno e anche al recupero di questi ragazzi pensate noi domani facciamo una conferenza territoriale socio-sanitaria con la presenza del Presidente della Regione noi di cosa parleremo di investimenti ma parleremo di personale e di formazione perché non si trova un infermiere non si trova un medico di medicina generale non si trovano in molte categorie dai rianimatori a puntini puntini specializzazioni nonostante gli aumenti dell'università e della formazione dell'università noi siamo in tilt non c'è un infermiere nelle case di riposo negli ospedali nelle strutture eccetera eccetera abbiamo bisogno di capire come fare per accelerare perché anche l'accelerazione fatta dall'università non è sufficiente perché ci vogliono almeno tre anni quindi c'è un problema di emergenza che tocca ma non è un lavoro facile e quindi molti non lo vogliono fare e altri invece hanno altre opportunità sono ingegnere e altre categorie quindi c'è bisogno di mettere la testa in questa dinamica e c'è bisogno di intrecciare il tema dell'università su questo terreno siamo tutti d'accordo e dobbiamo andare avanti mi è piaciuto il passaggio che Vittorio ha fatto anche sul tema dell'immobile scuola cioè non solo il pezzo della formazione scuola ma dell'immobile scuola di un patrimonio non sfruttato adesso a sufficienza che potrebbe diventare ancora più elemento di connessione del sistema formativo e il resto una fatica enorme anche qua per le complessità anche qui delle burocrazie del sistema delle regole che dobbiamo cambiare di quel sistema perché c'è sempre un tema di responsabilità e la responsabilità va connessa con l'utilizzo e con le opportunità quindi su questo terreno bisogna andare avanti vengo davvero all'ultima considerazione che è il tema dei diritti e aggiungo anche che su questo impianto mi piace molto tutta la questione il settimo punto quel diritto la felicità insomma adesso con tutta la depressione che abbiamo avuto in quest'anno e mezzo con tutte le difficoltà di quest'anno e mezzo con tutto quello che con le assemblee che vanno a fare in giro ho citato quella di un'importante cooperativa dove mi chiedevano di lasciarli morire io li voglio far vivere in una casa migliore li voglio far vivere in una casa antisismica e di qualità il tema di rilanciare culturalmente il tema di vivere insieme di vivere più felici è una scelta per me strategica anche qui quando io lo cito in consiglio comunale qualche d'uno insomma in qualche in qualche angolo sorride perché questo sindaco è sempre un po' però capisco che sono fatta la mia maniera però io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di far vivere bene perché le cose più facili e veloci le dobbiamo fare ma vivere insieme in una comunità ecco questo è il senso del cambiamento che dobbiamo assumere è il senso delle strategie europee delle risorse europee che dobbiamo affrontare è il senso di sconfiggere le paure è il senso di ragionare non oggi ma presto del lavoro perché abbiamo bisogno di capire quanto lavoro in Unione Europea vi do un dato 21 milioni di persone entro il 2030 dovranno essere formate per fare un lavoro diverso in Europa mancheranno 13 milioni di lavoratori abbiamo bisogno di ripensare a tutta questa strategia abbiamo bisogno di accettare l'accelerazione della trasformazione delle filiere quindi riconvertire quote di lavoro abbiamo bisogno di riposizionare e abbiamo bisogno anche di riprendere quella costruzione dell'intelligenza collettiva che per me è fondamentale dentro in un patto sociale forte perché poi alla fine se ragioniamo oggi il vero capitale strategico in un'azienda è ancora l'uomo è ancora il lavoro e quindi io sento imprenditori oggi parlare dei lavoratori delle proprie imprese in modo diverso anche di come ne parlavano in passato devo dire che qua non abbiamo mai avuto grandi problemi nei rapporti ma adesso sento parlare su un'esigenza strategica profondissima di valorizzazione non solo del percorso di cultura e conoscenza e formazione ma soprattutto del valore dei tempi delle modalità e credo anche che dobbiamo fare un rafforzamento di verifica di tutto questo quindi noi in nome di cose modene di ciò che vuole continuare ad essere dobbiamo fare uno sforzo lo sforzo di essere sempre dieci anni avanti adesso la dico la dico forte dieci anni avanti nell'idea nella visione nella voglia del futuro perché noi dobbiamo contribuire a costruire qui ma anche per il nostro paese un mondo migliore è una grande sfida ma insieme io penso che Modena possa affrontarla e anche vincerla grazie sindaco chiudiamo la nostra conferenza speriamo di non avere abusato del tempo di chi ci sta ascoltando anche perché i temi richiedevano un approfondimento ringrazio Vittorio Martinelli Emanuele Arata Franco Mosconi Elisa Valeriani il presidente Cavicchioli il sindaco e ricordo a tutti che non solo la ricerca sarà a disposizione sul sito della nostra fondazione ma che stiamo pensando ad organizzare per per l'autunno settembre ottobre una serie di workshop di momenti di approfondimento più tematici delle varie questioni che sono uscite nella complessità della ricerca grazie a tutti e buona serata grazie